Invito i consiglieri a rientrare, grazie. 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 Buonasera a tutti, buonasera anche al pubblico. La parola al segretario per l'appello. Grazie. Buonasera, Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci. L'avevo vista prima. L'avevo vista? No, mi sembrava di averla vista. Assente. Nossa, Assente. Pastorino, Pavanna, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante, Torraco, Tremolada, Assente. Vavassori. Un momento, Assente. Presente? 15. Assente 10. Sì. Consiglieri presenti, 15. Consiglieri assente, 10. Dichiaro valida la seduta del Consiglio Comunale. Risultano assenti giustificati la consigliera Pennasi, Di Stefano e Torraco. Questo punto, allora, ascoltiamo l'ino nazionale. Grazie. Consiglieri assenti giustificati la consigliera Pennasi, Di Stefano e Torraco. Consiglieri assente, 10. Consiglieri assente, 10. Consiglieri assente, 10. Grazie. come da prassi provvediamo alla nomine dei tre scrutatori chi si offre volontario Romaniello scrutatore Romaniello un altro Teormino e Cremonesi grazie abbiamo inizio ai lavori con le interrogazioni che hanno avuto risposta interrogazione numero uno presentata dalla consigliera Iosa relativa ai totem pubblicitari del distretto del commercio la parola alla consigliera Iosa prego grazie presidente buonasera questa interrogazione è inerente al posizionamento dei totem del distretto del commercio questi totem servono a pubblicizzare le vie e le zone interessate dal distretto del commercio in modo particolare in questa interrogazione ci riferiamo alla segnalazione di un commerciante della rondinella che rileva il posizionamento di uno dei totem in piazza di Maria ausiliatrice in un punto quanto meno strano questo totem è stato posizionato in mezzo a due panchine sotto gli alberi quindi in estate si verifica questa situazione carina in cui i signori che sono seduti a chiacchierare si sporgono ai lati del totem per potersi vedere con questa interrogazione si chiede di verificare insieme ai commercianti della zona interessata il posizionamento dei cartelli e dove è necessario provvedere ad un loro riposizionamento più consono le loro funzioni grazie grazie a lei risponde l'assessora Montrasio prego sì grazie buonasera a tutti innanzitutto mi scuso per il ritardo un po' imbarazzante nella risposta che insomma con la quale appunto abbiamo risposto visto che l'interrogazione è ormai di qualche mese ma essendo necessitando un confronto tra diversi assessorati purtroppo i tempi si sono un po' colpevolmente dilatati venendo al merito la collocazione e l'identificazione dei luoghi in cui collocare questi totem è stato oggetto di una accurata verifica fatta dalla cabina di regia del distretto dai progettisti dell'unione del commercio e dal nostro settore della qualità urbana peraltro la collocazione del totem oggetto dell'interrogazione era già stata modificata era già stato spostato diciamo perché già c'erano state delle segnalazioni in proposito il problema di quella zona è che occorre conciliare esigenze diverse quella della visibilità del totem naturalmente perché raggiunga l'obiettivo per cui è stato collocato ma soprattutto quella della sicurezza per la viabilità e questo è un po' l'elemento cruciale quindi poiché è un po' difficile dare risposte articolate per iscritto invitiamo e diamo la piena disponibilità a concordare insieme alla consigliera interrogante e ai tecnici la possibilità di identificare una nuova collocazione dal momento che lo spostamento è abbastanza semplice grazie all'assessore Montracio risponde dal prego consigliera Iosi grazie allora mi sono confrontata dopo aver letto la sua risposta con i commercianti della zona in realtà il totem non è mai stato spostato è esattamente dove era all'inizio quindi probabilmente l'avranno informata male comunque i commercianti sono disposti insieme a me o insieme a loro che comunque vivendo la zona magari sono anche più idonei a dire qual è il posizionamento che crea meno problemi fermo restando le regole viabilistiche fermo restando tutto quello che lei ha citato nella risposta a ridefinire insieme agli uffici il posizionamento del totem grazie grazie alla consigliera Iosa passiamo alla interrogazione numero 3 presentata dalla consigliera Franciosi relativa all'assenza dei giornali locali sul portale del comune la parola alla consigliera Franciosi prego grazie presidente allora con questa interrogazione abbiamo eh voluto chiedere all'amministrazione la ragione per la quale sul sul nostro portale non ci fosse eh non ci fossero non fossero riportati eh tutti i tutte le notizie eh presentate da ehm anche dai giornali locali eh o meglio sulla rassegna stampa del portale c'è ovviamente una selezione degli articoli che suppongo l'amministrazione ritiene o ha ritenuto più eh interessanti dal momento che eh però la maggior parte dei dei giornali locali eh possiedono anche un sito internet ci domandavamo come mai non fosse presente il rimando semplicemente il link che rimandasse alla eh copia elettronica non tanto cartacea ovviamente ma quanto la copia elettronica dei singoli eh delle singole edizioni locali ehm riteniamo appunto la pubblicazione di questi link una possibilità da parte dei cittadini che eh leggono la rassegna stampa attraverso il nostro portale una una maggiore una migliore possibilità di ricevere informazioni su quello che succede eh nella nostra città. Grazie. Grazie consigliera Franciosi. Le risponde il sindaco Monica Chittò. Prego. Grazie Presidente. Buonasera. Ehm la risposta all'interrogazione prevede anche come avrà letto un minimo di cronostoria per cui abbiamo eh ricordato come a partire dal dal 2004 l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di abbandonare quella che era la consueta modalità di eh rassegna stampa che era realizzata a mano e all'interno degli uffici per portarla all'esterno utilizzando appunto una società esterna tramite gare quindi mettere anche a disposizione eh della dell'utenza via internet la selezione dei degli articoli. Abbiamo anche spiegato il perché in quel momento per motivi di costi sostanzialmente le testate erano numerose e peraltro arrivavano in modo capillare in tutte le case praticamente e quindi si era ritenuto di non pur prendendo avendola presa in considerazione si era ritenuto però di di non eh di non inserirla all'interno della rassegna stampa dove non è l'amministrazione comunale che fa una selezione degli articoli ma laddove compare il nome del comune di Sesto San Giovanni in automatico questi questi articoli vengono vengono selezionati. È vero che in quest'ultimo anno eh il panorama anche della stampa cittadina è notevolmente cambiato praticamente quasi tutte le testate eh o hanno un sito internet o addirittura hanno sostituito completamente il cartaceo con il link e quindi eh in questo momento stiamo raccogliendo la disponibilità di tutte le testate online per poter fare quello che esattamente eh lei indicava cioè un link nel quale entrare quindi puoi vedere tutte le testate e giornali entrare anche perché diventa difficile fare una selezione degli articoli laddove abbiamo eh delle dei settimanali quindicinali che parlano interamente della città quindi diventa difficile selezionare l'articolo quando è l'intera testata che parla giustamente della città. Grazie. Grazie. La parola alla consigliera Francesi. Prego. Grazie presidente. Grazie sindaco. Prendiamo atto della risposta. Ci fa molto piacere che abbiate accolto questa nostra richiesta. aspettiamo quindi di vedere i link anche sul portale di tutti gli altri giornali. Grazie mille. Grazie alla consigliera Franciosi. Terminata la fase dell'interrogazione trattiamo gli argomenti indicati all'ordine del giorno. primo punto. Progetto edilizio numero 070 del 2009 e successive varianti. Società costruzione edili Trevi San Pietro. Nuova costruzione degli edifici denominati A e B di Viale Casirachi numero 222 angolo via Cavalcanti. Programme integrato di intervento. P. ex Carmine di via Cavalcanti. Dichiarazione di assenza dell'interesse pubblico all'annullamento di parte del permesso di costruire. CO 70 e successive varianti. Agli altri risultano nominate due relatori della seconda commissione consigliare. La consigliera Antonioli e il consigliera Lamiranda. Parla La delibera all'attenzione del Consiglio questa sera ha un tema preciso, cioè che oggi è oggetto di discussione e se esiste un interesse pubblico a revocare il permesso di costruire il numero 70 2009 attuativo per complessivi 3598 metri quadri e i relativi atti connessi e successivi. La discussione di questa sera non riguarda le diverse pratiche edilizie oggetto dell'attenzione della magistratura e non riguarda neanche tutte le procedure e gli atti relativi al P. ex Carmine che abbiamo puntigliosamente analizzato nella commissione speciale del 28 marzo e nella seconda commissione dello scorso martedì 2 aprile. La discussione di questa sera non verte neanche sulla liceità delle procedure e degli atti relativi al P. ex Carmine, atti a procedure chiaramente discutibili. Se cioè gli atti e le procedure seguite per attuare il P. ex Carmine non fossero bizzarri, non sarebbe necessario discutere questa sera se esiste un interesse pubblico a revocare il permesso di costruire. Ci troviamo qua questa sera a parlare del P. ex Carmine proprio perché esistono dei fondati dubbi sulla legittimità degli atti compiuti. In particolare, come abbiamo visto, i dubbi di legittimità non riguardano tanto i trasferimenti di volumetria, ad altro sedime, quanto piuttosto il recupero a scopi abitativi del sottotetto, cioè i 400 m2, che diventano 230 m2 se consideriamo i 170 preesistenti, che come hanno messo in evidenza gli uffici non potevano essere concessi come è stato fatto, ovvero con un semplice permesso di costruire, ma dovevano essere autorizzati attraverso una modifica del P.I. stesso e comunque della relativa convenzione. Ma torniamo al tema posto della delibera in votazione stasera, che riguarda la sussistenza di un interesse pubblico a revocare il permesso di costruire. Noi riteniamo che questo interesse pubblico non sussista, per tre ordini di motivi. Il primo motivo è che non esistono motivazioni urbanistiche, ambientali o paesaggistiche. L'intervento in via di realizzazione è uguale e compatibile con l'edilizia esistente all'intorno e non a caso. Alla fine di tutte le aggiunte, trasferimenti, recupero dei sottotetti, eccetera, ha la stessa densità edilizia prevista dal vecchio piano regolatore per le aree confinanti, pressa poco 0,7 metri quadri edificabili per ogni metro e quadro di superficie del lotto. Allo stesso modo non esistono cautele di natura ambientale o più specificatamente paesaggistiche. Non esistono ad esempio monumenti storici da salvaguardare. Il secondo motivo è che gli atti compiuti dall'amministrazione comunale nelle sue diverse componenti hanno senza dubbio costituito una garanzia per l'operatore, cioè quello che viene definito affidamento. Su questo aspetto non c'è possibilità di dubbio alcuno. Il recupero a scopi abitativi del soggetto è stato autorizzato da ben tre permessi di costruire e da un parere preventivo. Il Consiglio si è espresso due volte, delibera del 2006 di approvazione del PI Carmine e delibera del 2 gennaio 2010 per la modifica cosiddetta planivolumetrica. La Giunta ha deliberato e deciso innumerevoli volte, senza contare poi gli atti assunti da funzionari come in primis il permesso di costruire. Ricordo che la qualità in gioco, i 2.600 metri quadri iniziali, i 400 metri quadri del sottotetto e i 900 metri quadri del primo trasferimento e i 550 del secondo erano precisamente conosciuto da tutti e contemplati almeno dal lontano 2008. Il terzo motivo è il tempo trascorso 39 mesi dalla delibera del Consiglio Comunale dal gennaio 2010 per la cosiddetta modifica planivolumetrica e 46 mesi dal rilascio del permesso di costruire, tempo che ha indubbiamente reso più evidente l'effetto affidamento, a cui prima accennavo senza contare poi che quasi tutti gli appartamenti sono stati oramai venduti e vi sono purtroppo dei cointeressati incolpevoli, cioè chi ha acquistato, di cui non possiamo non tenere conto. Insomma, non esiste un interesse pubblico a revocare il permesso di costruire, perché come è stato detto dall'assessore Marini, tutto ciò che è stato fatto poteva essere fatto, sebbene non con procedure più corrette e sensate. E tutto ciò che è stato fatto è stato fatto in conseguenza ad atti e provvedimenti assunti dall'amministrazione, ancorché bizzarri o illegittimi. Per questi motivi noi riteniamo che non vi siano i presupposti per una revoca in autotutela del permesso di costruire e di tutti gli atti connessi e conseguenti. Concludo la relazione con tre annotazioni. La prima, perché è un voto del Consiglio. Il primo luogo perché il Consiglio si è espresso ed è stato coinvolto sul tema ed è corretto che si esprima circa l'esistenza di un interesse pubblico, così come per parte loro hanno già fatto i funzionari e la Giunta. Il secondo luogo perché ritengo che un fatto di tale importanza deve essere obbligatoriamente discusso dall'orgono più importante, dall'amministrazione e cioè il Consiglio e nella forma più pubblica e aperta possibile. La seconda notazione riguarda il P.I. ex Carmine e le altre pratiche che sta esaminando la Commissione speciale, ovvero quell'oggetto dell'attenzione della magistratura. È vero, il P.I. Carmine è la prima pratica che trattiamo. Ma ognuna delle pratiche dovrà essere analizzata e valutata singolarmente e con un riferimento al caso concreto. Le generalizzazioni potranno semmai essere fatte solo per quanto riguarda i criteri adottati per la valutazione. Poteva essere fatto, non poteva essere fatto, è stato fatto in conseguenza o indipendentemente dagli atti assunti eccetera, che dovrà obbligatoriamente essere puntuale caso per caso. Terza notazione conclusiva, l'operatore si è impegnato a realizzare un'opera in aggiunta alle somme già versate in più rispetto al dovuto e che non sono poche. Come hanno precisato gli uffici, tal impegno non è un ristoro, ma comunque sarà utile per realizzare un'opera di interesse cittadino. In Commissione sono state poste parecchie domande, alle quali è stata data risposta scritta ai consiglieri presenti dall'architetto Riganti, che ringrazio per la sua collaborazione. Ringrazio inoltre l'assessore Marini per come ha illustrato il tema di questa delibera e per la sua collaborazione. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli. La parola al consigliere Lamirante, come secondo relatore. Prego. Grazie signor Presidente. Ma devo dire che il mio intervento, essendo in questa funzione solo di componente di Commissione, sarà prettamente tecnico e non darò giudizi come ha dato invece la consigliera Antonioli. Lo lascerò subito dopo l'intervento politico. In sede di analisi e approfondimento della proposta di delibera, con l'amministrazione e in particolare con l'assessore Marini, si è esaminato non solo la valenza della portata a meno dell'interesse pubblico e quindi un approfondimento attraverso il parere espresso da un legale nostro consulente, ma anche l'iter formativo in quanto tale della planivolumetria che nel gennaio 2010 fu discussa in quest'Aula e approvata dal centro-sinistra. In quel sede di Commissione lo stesso assessore ha espresso forti riserve, e mi pare che queste indicazioni siano emerse anche nella relazione della Capogruppo Antonioli, forti riserve sulla regolarità dell'iter amministrativo, non solo in relazione alla SLP sviluppata, ma anche come iter amministrativo di proposta di intervento che doveva essere qualificata anziché un intervento planivolumetrico, ma come una variante di PI. È stata anche affrontata la questione, perché proposta dai consiglieri di minoranza, del motivo per cui si investiva il Consiglio Comunale di una decisione tanto importante, cioè dichiarare l'assenza di interesse pubblico in assenza dei requisiti tecnici da parte dei consiglieri comunali per esprimersi in tale senso e assumendosi essi in medesimo una responsabilità ovviamente enorme anche da un punto di vista e in prospettiva di un danno erariale all'ente. Poi si è affrontata anche la questione su cui noi auspicavamo stasera di poter avere quantomeno, e questo devo ricordarlo anche il Capogruppo Caponi ne ha fatta menzione, di arrivare in aula quantomeno con il parere dell'ufficio legale del nostro Comune, visto che abbiamo tre avvocati, esperti in diritto amministrativo, avremmo gradito che ci fosse stata una relazione asseverata anche da questi tre professionisti, visto che fanno parte del nostro bagaglio. E in più ci eravamo permessi di chiedere anche il parere dell'Avvocatura di Stato, non fosse altro perché l'Avvocatura di Stato non è pagata da noi, è un organo terzo a tutti gli effetti e chi meglio dell'Avvocatura di Stato abituata a difendere l'amministrazione nei confronti dei privati sull'interesse pubblico può dirci se effettivamente permane o non permane un interesse pubblico. E questa è stata l'analisi da questo punto di vista sulla valenza dell'interesse pubblico. Poi c'è stato anche riferito in relazione alla proposta che è stata oggi avanzata di una sorta di improprio risarcimento in opere, in costruzioni, per una controvalore fino a 85 mila euro. E c'è stata anche poi dopo fatto un accenno sul discorso del risarcimento perché ad effetti poi l'assessore Marini ha evidenziato quello che è il vero problema sostanziale di questa delibera. Non è tanto demolire o non demolire gli edifici, perché credo che qua nessuno voglia arrivare a questo, ma è quanto capire come risarcire l'amministrazione e da chi farci risarcire di tutto questo che è successo. Su questo l'assessore ha avuto già delle indicazioni chiare, ha dato che erano in parte sull'SLP che così come sviluppata non è conteggiata negli standard e nei costi, anche se in parte dicono tra i costi di urbanizzazione primaria e secondaria ce n'è in eccedenza, ma non lo è, diciamo, da un punto di vista sotto un altro aspetto e poi lo vedremo meglio nella discussione politica. Così come ha individuato sicuramente tutti i costi che l'amministrazione ha dovuto sostenere nei giudizi amministrativi che sono stato di fatto congelato e soprattutto ha detto il costo che l'amministrazione ha dovuto sostenere per due mesi, tra consulenti e personale tecnico, per riesaminare tutta questa vicenda e arrivare alla conclusione che stasera viene proposta all'Aula. Questi sono sostanzialmente, credo di averle ricordate tutte, gli elementi che hanno portato alla discussione con i rilievi poi ovviamente emersi da parte di questa minoranza che nel dire che nel gennaio 2010 queste cose le avevamo già dette in Aula in sede di discussione e come abbiamo rilevato che vi fossero appunto alcune anomalie, devo dare atto che poi il dirigente l'ha partita l'architetto Riganti in questi giorni ha dato conferma che mi ha confermato perché era una dizione che io non avevo ben compreso in commissione, cioè mi ha detto e ha confermato che 402 metri quadri di SLP, tanto per essere chiari, il sottotetto sono a tutti gli effetti illegittimi. Quindi anche oggi con questa delibera non è che si sanano, rimangono illegittimi, quindi si tratta di capire come materialmente monetizzarli perché la via che è stata proposta è stata quella della monetizzazione sostanziale di tutte queste situazioni anomale che si vengono a verificare sulla questione. L'ultima questione che è stata posta è stata quella delle serre bioclimatiche. Su questo si era chiesto una serie di domande, io spero che, penso che l'assessore poi in parte il dirigente Riganti ci ha mandato anche l'analisi e i documenti a sostegno. Era una certificazione che c'è stata da parte del soggetto attuatore con aperizia giurata di un esperto, dove c'è la conformità da questo punto di vista della struttura delle serre bioclimatiche conforme al disegno di legge, con il limite massimo previsto alla legge del 25%, così come c'è stato esplicitato poi nella relazione che ci è stata inviata successivamente alla Commissione anche i costi dettagliati che sono stati versati dall'operatore in relazione ai vari PI che via via si sono succeduti, ai vari permessi che si sono succeduti. Questo è sostanzialmente quello che è emerso in Commissione. L'ultimo particolare, ma che è una cosa che credo vada ulteriormente approfondita a posteriori, era quello dell'assenso, perché è un vizio che si trascina fin dall'inizio da questo PI è il fatto che abbiamo rilevato, in parte c'è stato confermato dall'amministrazione già, che nel 1975 quest'area di fatto è stata spogliata di tutte le volumetrie, perché era stata fatta nel piano, adesso non ricordo più come si chiamava l'edizione, di via Riosto, sostanzialmente tutto edificato di via Riosto. E che lo sviluppato del PI Carmine del 2006 nasce sostanzialmente dall'edificato sul sedime e quindi da lì che fondamentalmente è stato poi portato avanti tutto lo sviluppo, arrivare ai 4.400 metri quadri di SLP finale che oggi è l'intero intervento. Questo è il quadro complessivo che è emerso dalla discussione per quanto ci concerne, credo di aver riassunto anche tutte le posizioni e i dubbi espressi anche dai consiglieri di minoranza. Grazie. Grazie consigliere Lamiranda. A questo punto possono intervenire il sindaco, l'assessore, volendo. La parola alla dottoressa, alla segretaria comunale. Prego. Non so se può essere utile. Volevo fare due precisazioni che forse possono avere attinenza anche rispetto a alcuni dubbi che lei segnalava siano emersi in corso della commissione. Il primo punto è che, come però lei stesso poi ricordava oggi, insomma stasera, l'oggetto della delibera di stasera è l'interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire del 2009 rispetto al quale la direzione del governo del territorio ha avviato un procedimento per l'annullamento essenziale al 241 del 1990. Il secondo aspetto è legato alla circostanza che la normativa, la 241, prevede la possibilità di rimuovere dall'ordinamento un provvedimento amministrativo illegittimo, che quindi illegittimo resta, nella misura in cui ci siano una serie di condizioni, si realizzino. E tra queste condizioni, oltre al termine ragionevole di tempo che è trascorso dall'adozione dell'atto e a tener conto degli interessi dei soggetti destinatari dell'atto, dei controinteressati, anche la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto. L'interesse pubblico, secondo la giurisprudenza, è un interesse pubblico che deve essere collegato a ragioni di concretezza e attualità. Conseguentemente si è deciso, insomma, a livello di direzione del governo del territorio, di coinvolgere nella verifica della sussistenza del caso di specie di un interesse pubblico all'annullamento illegale che seguiva il Comune rispetto al ricorso intentato dalla ditta Trevisan rispetto agli atti di avvio del procedimento di annullamento, che quindi ha avuto modo di verificare con la direzione del governo del territorio gli elementi concreti oggetto di attenzione da parte dei destinatari del provvedimento finale. Volevo soltanto dire questo e anche la ragione per la quale si è coinvolto il legale che seguiva la pratica, concretamente. Grazie, segretario. Quindi a questo punto apriamo gli interventi. Quindi ha chiesto la parola il consigliere Lamiranda, che nel frattempo ha chiesto anche il raddoppio dei tempi. Ne ha facoltà, prego. Sì, più 5 come capogruppo, visto che ho acquisito anche questo nuovo titolo. Ne usufruisco per prudenza. Dunque, dove eravamo rimasti? Mi verrebbe facile al gennaio 2010, con un flashback, stiamo tornando indietro di tre anni, o poco più o poco meno. Così come è vero, qualcuno ha evidenziato, stasera non discutiamo tecnicamente dell'intervento, in parte. In parte, perché in realtà se andiamo a leggere la delibera ci sono anche passaggi tecnici, non solo di valutazione di interesse pubblico. Così come dirò poi il perché veniamo in aula a discutere se non c'è un interesse pubblico a questo punto. Però è bene ricordare come si è arrivati a questo pasticcio, perché se da un punto di vista penale qualcosa è già intervenuto, ma non siamo qua a dare giudicato, ci sono responsabilità politiche e poi ci saranno anche le responsabilità amministrative e contatti. Ma le responsabilità politiche, il dovere di chi fa questo lavoro, tra virgolette impropriamente, con passione di denuncia e di controllo, ha il dovere di ricordarlo, tutte le volte, perché non c'è quella, da parte della maggioranza, quella capacità di dire, per una volta c'è stata, vero, c'è stata, di dire abbiamo sbagliato. Mai. Allora, è bene che ricordi cos'è successo, perché molti di quella stagione non c'erano, ma le parole sono rimaste agli atti. Il sindaco Aldrini, l'ex sindaco Aldrini, il 15 giugno 2009, quando discutevamo di un altro intervento che poi è stato oggetto e attenzionato dall'indagine della Procura. E queste furono le frasi che lui disse a chiusura del suo intervento. Ho già avuto modo di dire, ripetutamente in quest'Aula e fuori da quest'Aula, non condivido questo modo di fare politica con un continuo riferimento ad articoli, a leggi e ai tribunali. Il problema che si pone allora è come si amministra una città, in violazione delle norme amministrative, in violazione degli iter amministrativi, l'importante è perseguire il fine ultimo. Assessore di leva, ex assessore di leva. Si hanno trasformato il Consiglio Comunale in un'Aula dell'Inquisizione, non nel luogo di confronto politico che dovrebbe essere. Il piano di integrazione, occhio che è quello che dice poi l'assessore, nel suo comunicato stampa, il piano integrato di intervento, questo comunicato stampa del gennaio 2010, due giorni dopo che avevamo fatto la discussione in Aula, avevamo noi denunciato quello che non andava nel PIP. E dice, sarebbe infatti stato un reato se il perito avesse quantificato eventuali premialità soggetto a un piano di recupero che in quel momento non c'era ancora, sarebbe stato come vendere la fontana di Trevi. L'avete venduta. E poi non me ne vorrà il capogruppo rivolto, però ce n'è anche per lei. Non stiamo discutendo del trasferimento di volumetrie. Questa è stata la sua apertura di discussione. Quando l'altra sera in commissione abbiamo sentito un tecnico, perché in questo mi riconosco che abbiamo veramente un tecnico, dove ha posto seriamente il proprio dubbio che quell'intervento come proposto come plano involumetrico, con tutta onestà ha detto che si trattava di trasferimenti di volumetrie effettivi e quindi non poteva essere fatto un plano involumetrico, ma doveva essere fatto un altro tipo di intervento, cioè una variante. E noi cosa abbiamo detto in un comunicato all'epoca? Questo è di, credo, un giorno o due giorni prima delle affermazioni dell'assessore di leva. Siamo fortemente preoccupati dell'assenza di regolarità nell'iter amministrativo, soprattutto della circostanza che i volumi trasferiti dall'ex Cinema Apollo siano ancora di fatto a disposizione del proprietario di Caterina, che in assenza di una vera demolizione, come chiesta dalla Giunta nel 2008, potrà attraverso i cavilli del PGT recuperare quasi integralmente l'edificio. Come già in passato per altri PI, ora sotto inchiesta, subiudice, avevamo messo, ci rivolgeremo all'autorità preposta al controllo della legittimità dell'operato di questa amministrazione e di questa maggioranza. Ora, per quanto tutti possano dire che l'intervento va, tra virgolette, salvato oggi, però ci sono responsabilità politiche, chiare, evidenti. Perché poi, a seguito di quella delibera del gennaio 2010 e agli atti, perché il segretario comunale non ne aveva traccia nei vari carteggi, ma c'è agli atti perché ne ho data coppia, c'è una richiesta a marzo 2010 di autotutela al sindaco, al segretario comunale all'epoca reggente e all'ufficio tecnico. Esattamente i vizi e i rilievi che poi sono emersi nell'elaborato del perito della procura e sono gli stessi vizi e rilievi che oggi incidentalmente vengono ripresi, che sono stati ripresi nell'ordinanza di sospensiva e che oggi vengono qui ripresi comunque incidentalmente, vengono fatti riferimento perché se no non si giustifica o non si può giustificare perché si abbandona, da questo punto di vista, l'azione amministrativa intrapresa. però alcuni vizi permangono, alcune irregolarità permangono e da questo punto di vista, se da un lato alcuni sostengono che viene meno l'interesse pubblico, non c'è più l'interesse pubblico perché è decorso tanto tempo. Allora io dico, la verifica della rispondenza degli standard rispetto al PI inizialmente assentito e quello che poi si è sviluppato finale, è interesse pubblico ancora o no? Se permane? Domanda. È interesse pubblico la realizzazione del giardino pubblico o no? È interesse pubblico monetizzare la parte di convenzionata dal delta di differenza tra il PI del 2006 licenziato che era per 2600 i dispari e i 4 e 4 che oggi si sono sviluppati quel 20% in mezzo? Non si sa niente, non c'è traccia di monetizzazione, c'è la monetizzazione del 20% iniziale, ma di quest'ulteriore 20% di convenzionata non vi è traccia. Poi tutto è lecito, tutto è possibile, per carità, ma ricordiamoci che sono i soggetti che hanno anche confezionato questo intervento. Sono dei professionisti che come sappiamo sono già stati anche condannati per reati gravi. Ora, nella proposta di delibera, e qui vengo anche ad analizzare l'aspetto più tecnico, si dice che noi non abbiamo più interesse a perseguire queste irregolarità amministrative. Cosa facciamo quindi? Abbichiamo? Abbiamo atto che ci sono delle irregolarità, sappiamo che ad esempio ci sono delle SLP che vengono sviluppate ma che tecnicamente non hanno un documento idoneo per essere oggi ancora sanate, perché vorrei capire che cosa stiamo facendo di fatto. Non c'è però l'interesse pubblico se fare questo. Non c'è scritto neanche una monetizzazione, le controvalore dell'abbandono della pendenza di lite è la monetizzazione di questa parte da parte del soggetto attuatore. No, non c'è niente. Poi c'è la buona fede, però dopo io mi pongo i problemi, le questioni vengono. Perché poi nel dicembre 2010, nel 2012 chiedo scusa, il soggetto attuatore mi scrisse, non so come gli venne, e in quella sede mi disse chiaramente che era cosciente che c'erano delle irregolarità. Attribuendole però dice mi sono state fatte tutte dal tipico atteggiamento dell'architetto Magni che ho ereditato, tra virgolettato, da chi? Ognuno è libero di mettere il professionista che vuole o siamo nella situazione come di Cattagirone che ha dovuto mettere l'architetto Sarco. Domando. Sono anomalie che pesano. Così come con coscienza, personalmente, non andrò a un parere favorevole a questa delibera, ma non per un pregiudizio. Primo, perché è una delibera che non competa al Consiglio Comunale. perché il procedimento attuato, su cui oggi si viede di chiuderlo amministrativamente per carenza di interesse pubblico, l'ha fatto la Giunta. È un atto proprio della Giunta, autonomo, che ha dato impulso ai propri uffici, condividendone le valutazioni, a sospendere inizialmente l'iter di completamento di questo intervento edilizio. Non siamo mai stati noi chiamati su questa questione tipica. Il nostro compito, la nostra funzione, è finita quando nel gennaio 2010 avete licenziato un PI. Lì l'iter amministrativo di responsabilità dei consiglieri comunali si ferma. Se poi stasera voi volete prendermene di ulteriore responsabilità nello statuire l'assenza di interesse pubblico, senza un controvalore economico di questa assenza di interesse pubblico, ve ne assumete nuovamente le responsabilità e sapete benissimo che ci saranno anche delle conseguenze, perché il danno era reale, c'è. Fossero anche mille euro, ma c'è. E nessuno qua lo sta chiedendo. È responsabile. E i responsabili non sono i soli tre condannati, lo dico già chiaro. Perché se un sindaco che riceve una richiesta di autotutela nulla interviene, se un ex segretario generale nulla fa, o facente funzioni per la verità, in quel momento. Se poi, come ha detto l'assessore Marini, l'intervento di PI, plani volumetrico, era spagliata come proposta. Il soggetto attuatore può tranquillamente sbagliare, il proprio professionista non conosce le leggi, per carità, conosce e conosceva molto bene, lo sappiamo. Però il soggetto attuatore non conosce le leggi e quindi si affida a un professionista non adeguato che fa un tipo di proposta, perché poi la proposta viene sempre da soggetto attuatore. L'ente è preposto al controllo. Ma se chi è preposto al controllo sbaglia, qualcuno dovrà chiedergli danni allora, visto che ha prodotto un danno all'amministrazione. E siccome quella delibera è firmata da due tecnici, uno non fa più parte dell'amministrazione comunale, ma l'altro addirittura rivesta ancora la funzione che già rivestiva all'epoca. Io chiedo ufficialmente al segretario comunale allora a questo punto di prendere provvedimenti disciplinari o qualcosa del genere, perché non è pensabile allora se le affermazioni che ho stasera dall'assessore Marini magari non le riconfermerà per quieto vivere, non lo so, però quelle erano in commissione e nessuno le può negare, ha detto che l'intervento sicuramente era un intervento sbagliato. Peraltro è stato indicato anche negli atti di assenso, perché? Perché il PI di fatto ha licenziato 402 metri quadri di SLP che non esistevano da nessuna parte in quel momento. E siccome io non credo che non fossero in buona fede i consiglieri comunali, perché giustamente me lo ricordo che lo disse il capogruppo Rivolta, noi ci fidiamo di quello che ci dicono i nostri uffici comunali e ci mancherebbe altro, giustamente dice lei, sono quelli che sono assunti con quella qualifica specifica, se ci dicono loro delle cose errate, scusate noi siamo in buona fede se sbagliamo, loro sicuramente sono quantomeno degli incapaci. Poi magari abbiamo visto che c'era anche la mala fede. Allora vogliamo, o va tutto bene ancora anche questo, mantenerne nelle posizioni e nei ruoli che hanno? Visto che è firmata da due responsabili dei due dipartimenti, urbanistica e ufficio tecnico edilizia privata. Credo che da questo punto di vista debba essere apportato anche da questo punto di vista un intervento. Poi abbiamo la questione dei 900 metri quadri dell'SLP famosa del cinema estense. Il cinema Apollo, chiedo scusa perché il cinema fotografico estense. E mi si dice, non c'è neanche più l'interesse pubblico su questa questione. C'è un contenzioso aperto, eh? Con le cinematografiche estense davanti al TAR. E' problema che poi l'altro giorno mi sono fatto dare le carte, le olette, anche voi credo che le conosciate. La seconda ordinanza TAR, la prima cosa ha fatto? Ha congelato la situazione in quel momento e ha chiesto di integrare il contraddittorio tra, impropriamente di Caterina, così ci capiamo al volo, e il Comune, con il terzo soggetto interessato, cioè l'attuale soggetto attuatore del PI Carmine. Quindi questo giudizio è pendente con un'integrazione di litis consorzio, si dice necessario. Perché che cosa ha scritto il TAR nell'ordinanza che ha detto prima facce, cioè prima vista, non vediamo il Fumus che reclama di Caterina, cioè del fatto che non si può non demolire l'edificio, perché questo ha detto il TAR. E quindi non sospendiamo l'ordine di acquisizione dell'edificio a patrimonio del Comune. però dice una cosa importante, perché dice che se fosse vero quello che dice il ricorrente, cioè di Caterina, questo prospetterebbe addirittura, su parole dei giudici amministrativi, l'improcedibilità dell'intervento in caso di mancata demolizione dell'edificio di cui è causa in relazione al trasferimento di SLP. E allora si pone il problema che l'altra sera avevamo fatto in Commissione. Come ci regoliamo con un doppio, dopo, con una superficie raddoppiata di 900 SLP? Perché ne abbiamo una che si è trasferita su PI Carmine e un'altra che mi rimane congelata in un patrimonio acquisito dal Comune, poi tecnicamente, perché se risultasse vero quello che assume il Comune, abbiamo il patrimonio con uno scatolo in vuoto, ma se fosse vero quello che assume il ricorrente, cioè colui che ha trasferito e ha venduto la propria SLP per 900, lui si ritroverebbe nuovamente titolare di 900 metri quadri di SLP, perché si avrebbe un effetto ripristinatorio da questo punto di vista. E quindi ci troveremmo con una duplicazione di SLP. E qui non c'è più interesse pubblico, a quanto pare, vedo stasera voi dite. Era per chiarire. Cioè, a me non abbiamo, attendiamo i giudicati per capire. Io personalmente e quello che poi ho dato anche agli altri consigli, sicuramente su una cosa del genere non mi azzardo minimamente a esprimere un parere favorevole. Ma che cognizione abbiamo noi per sentenziare oggi perché ve lo viene a dire il segretario comunale o perché ve lo viene a dire il professor Sapioni che gli è scappato poi all'assessore a Milano in commissione, in fretta furia, ha fatto il parere legale, tanto vero che gli è scappato anche qualche zero di troppo nelle certificazioni dell'SLP e dell'assenza di interesse. Nostro consulente, tra parentesi, remunerato. Quindi, se voi vi fidate di questo, vi siete fidati anche in passato e state facendo un mea culpa, accomodatevi, votatela. Il consiglio che noi vi hanno dato, come l'abbiamo già dato in altre occasioni, era quello di dire, siccome è un atto proprio della Giunta, se ne assume la responsabilità della Giunta, se decidi oggi di fermarsi. E se ne assume la responsabilità pienamente, anche in relazione alla quantificazione, tra virgolette impropriamente, del danno conseguente a questi atti illegittimi, da un punto di vista per sanare la pratica da un punto di vista amministrativo. Io so che si sanano le pratiche in un modo diverso. Tanto è vero che, ad esempio, sulla certificazione delle serre bioclimatiche. A parte un foglietto giurato, per carità, ognuno si assume la sua responsabilità, quindi va benissimo. Ma l'assenza di interesse pubblico la si dà all'inizio dell'intervento o quando si fa il sopraluogo finale con la valutazione dell'ufficio tecnico per verificare la congruità con quanto inizialmente dichiarato e che quindi sussistano tutti i requisiti per dichiarare quelle superfici serre bioclimatiche a tutti gli effetti o diversamente quindi SLP non computabile o diversamente l'assenza di tutti i requisiti di legge e quindi SLP computabile e quindi con gli effetti conseguenziali. Cioè che quegli effetti quali sono, una volta edificato, che non si può ovviamente pensare di andare a demolire perché c'è comunque la buona fede complessiva, l'affidamento, eccetera, ma comunque ci sono le altre situazioni previste chiaramente dalla legge per sanare queste irregolarità, cioè la monetizzazione di tutte queste differenze. Ma oggi voi venite a dire che non c'è più interesse pubblico neanche nel verificare le serre bioclimatiche. Fatelo voi. Per me, per male, anche su questo. Cioè almeno completiamo l'iter del PI, cioè facciamo depositare l'ultima azione lavori e dopodiché si fa la verifica e si vede se tutto corrisponde e se tutto quadra. Così come la cessione degli standard, se ci siamo e ci troviamo in linea con quanto previsto dal PRG e dal precedente PGT, perché poi le norme sono sempre quelle che sugli standard, non è che sono cambiate molto. Quindi questo è un'analisi che deve essere fatta da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista prettamente politico dei singoli consiglieri. In passato ve l'abbiamo già detto diverse volte, avete sbagliato, siete andati con troppa fiducia su quello che veniva detto. Qui adesso voi stasera volete prendervi questa responsabilità, prendetevela come consiglieri, ma guardate che poi la responsabilità cade solo su di voi dopo. E non dite che dice no, ma non così perché il segretario comunale ci dice di no. L'aveva detto anche in passato, poi gli è scappato in commissione l'assessore perché è un po' più pragmatico e ha detto e beh qua dopo sarà da vedere se ci sono delle responsabilità perché se c'è un danno erariale, chi ha concorso a deliberare il danno erariale è chiamato a rispondere. Poi in che misura? In che modo? Non si vedrà. Però c'è. Volete farlo? Fatelo, ci mancherebbe altro. Io fossi nella maggioranza, direi alla mia giunta, è un atto tuo proprio, non vestire me consiglio di questo, non spogliarti delle tue responsabilità. Tu hai iniziato un'azione di autosuspensione, tra parentesi avresti potuto allora a questo punto iniziare un anno e mezzo fa quando si è avuto i primi sentori, perché non si capisce perché su tutti gli interventi in discussione all'epoca l'amministrazione non ha pensato di fare un provvedimento temporaneo di congelamento in attesa dell'analisi di che cosa era veramente successo. Allora adesso oggi l'iniziativa è stata della giunta, del sindaco. La giunta e il sindaco decidono loro che non è più il caso di andare avanti. Basta. Qui non stiamo deliberando se è necessario intraprendere un'azione di risarcimento danni contro il signor X e il signor Ypsilon e per quale entità su cui potrebbe e legittimamente essere chiamata e investito il Consiglio Comunale a dire agiamo o non agiamo. Se c'è interesse o non c'è interesse. Agiamo o non agiamo. È una cosa diversa. Qui voi dovete certificare davanti ai giudici della Corte dei Conti, perché questa delibera passa alla Corte dei Conti, che non c'è più nessun interesse pubblico su questo P. Rebus sic stantibus, dicevano i latini, stando così le cose come si sono formate. Io non lo scaricherei mai questa responsabilità, chi la butta. Quindi gli uffici hanno la loro responsabilità, anche i nuovi uffici, di prendersi una certa responsabilità, di dire che non c'è più un interesse pubblico. Lo stesso la giunta e lì si ferma. Non prendetevela a voi. Quindi chiedete all'amministrazione e quindi al Sindaco di ritirare questa proposta di delibera, anche perché l'iter di per sé stesso è completo. Noi non dovete fare niente. Voi dovete semplicemente abballare la decisione politica supportata da una consulenza tecnica, non di nostri uffici, non di nostri uffici, non di nostri uffici, ve lo sottolineo tre volte, per giunta, di un terzo estraneo, di un'assenza di interesse pubblico. Io non sono urbanista, ci mancherebbe altro, ma qualche cognizione insieme al collega Caponi di diritto ce l'abbiamo. E francamente tutta questa tranquillità non ce l'avrei a votarla, sicuramente anche con il parere di un professore universitario urbanista. Perché chi mi tranquillizza sono l'ufficio legale del Comune, perché chi meglio di loro che sono esperti di diritto amministrativo. Ma soprattutto se oggi il Sindaco si fosse presentato con il parere dell'Avvocatura di Stato, beh signore, sarebbe stato difficile dire non avete ragione che non permane l'interesse pubblico. Cioè a dire avete ragione non c'è più l'interesse pubblico, ce lo certifica l'Avvocatura di Stato, perché poi voglio vedere davanti a un giudice contabile come il giudice contabile terzo dice no ma voi avete preso un abbaglio, scusi ma allora qua c'è tutta l'Avvocatura di Stato che non capisce più niente. Perché se ce lo certifica l'Avvocatura di Stato, scusate, io sono in assoluta buona fede. Se invece il giudice terzo dice scusate ma voi avete preso per oro colato una consulenza di un vostro consulente da voi retribuito, che vi ha detto ma con quei criteri, ma con quali cognizioni di causa voi? E' perché c'è stato detto dall'amministrazione, c'è stato detto dall'ufficio tecnico che questo era un consulente urbanista. Accomodati. Io non lo farei proprio perché è una situazione delicatissima. E queste sono scelte che poi come è stato detto in commissione fondamentali perché questo è un progetto, è un'approvazione di una transazione pilota perché poi a caduta ci saranno tutte le altre su questo intervento. Cioè oggi come chiudiamo la partita su questo intervento si avrà la ripercussione su tutto il resto. Quindi se oggi dichiariamo che non c'è più interesse pubblico su questo intervento vorrei capire come un altro soggetto non può invocare l'assenza di interesse pubblico su un'altra anomalia che esiste. Perché in commissione mi è stato detto no ma via Pisa vi vorrei capire allora perché dice non è venuto meno l'interesse pubblico. Lì ce ne sono due di condanne per giunta su via Pisa perché anche per abusi di lizio. Però mi piacerebbe sapere perché c'è questa dopo disparità di trattamento. Perché lì c'è una sentenza penale per giunta specifica su un abuso di lizio? E vabbè lì c'è l'abuso di lizio perché è stata edificata addirittura senza una concessione di lizio o meglio la concessione di lizio c'era ma diceva tutt'altro. E qui potremmo traslare anche questa valutazione perché P c'è ma diceva tutt'altro rispetto a quello che doveva essere fatto. Anche l'abito teoricamente poteva essere edificato quello che è stato edificato però doveva essere fatto magari in un modo diverso. No ci sono due problemi. Uno è l'edificio che è l'edificio. Vabbè ma poi lo affronteremo tanto dovrà passare anche questo in commissione in commissione e poi chiudo però la perla. Siccome poi il punto nodale anche della discussione sulla permanenza o non la permanenza dell'interesse pubblico e stato. Sì vabbè ma sui 900 comunque i standard ci sono tutti, superficie destinate e tutto. Comunque tanto abbiamo ragione noi perché l'edificio si può demolire. Poi oggi mi è arrivato, che ogni tanto arrivano, una copia di un'ulteriore certificazione data dalla Sostaro. Non so in quale giudizio amministrativo è stato prodotto perché ci sono i bolli dell'amministrativo e quindi ecco perché da cui deduco da dove è stato prodotta questa certificazione. In cui la Sostaro non c'è purtroppo data su questo che mi è dato e ahimè questo è un vizio che qua ci sono spesso date che non combaciano eccetera perché poi magari qualcosa lo diremo anche. A parte che qualcuno dovrà rispondere anche alla procura. Adesso vedremo. Però alla fine cosa ci viene a certificare sulle famose possibilità di demolizione? La Sostaro quindi l'ufficio tecnico quindi questo comune. Cioè che nel giudizio contro di Caterina sta dichiarando che non è demolibile, che è demolibile, la Sostaro ci certifica che non è demolibile quell'edificio. E qua è un documento, c'è scritto comune di Sesto San Giovanni ufficio tecnico, firmato il dirigente. Ora se da un lato dobbiamo abbassare la testa perché diciamo ahimè il comune ha certificato certe cose e quindi adesso il soggetto attuatore in buona feria ha fatto affidamento, io mi avvalgo anche di questo nel farvi una riflessione. Perché su questo mi sta dicendo esattamente che l'iter amministrativo non si completa. E se questo lo tengono per buoni i giudici amministrativi che facciamo? Contenti voi, contenti tutti, ci mancherebbe altro. Quindi quello che vado a concludere, stando nei tempi che mi ero prefissato, come vedete non ho infierito da un punto di vista tecnico, anche perché la discussione poi non sarebbe comprensibile ai più, ma ai pochi che si sono interessati e che hanno analizzato il più. Era doveroso però richiamare all'ordine, come si suole dire, questa amministrazione e questo Consiglio Comunale, questa maggioranza, su come ci sia stata eccessiva superficialità in passato. Tra i componenti che anche siedono in quest'Aula, lo dico con assoluta chiarezza, partendo in primis dal Sindaco, quando nelle delibere di giunta sono state fatte, senza analizzare nel dettaglio, perché poi, così come dissi già in altri interventi, un semplice Consigliere Comunale, leggendo un po' le carte, trovava che qualcosa non funzionava. Io credo che quando uno ha la responsabilità di essere in una giunta, anche nella funzione semplicemente di assessore, anche se non un assessore alla partita, ma siccome la firma ce la mette su quei maledetti verbali o benedetti verbali, io credo che con coscienza, soprattutto su interventi di questa natura, che sappiamo che sono complessi, e siccome già erano chiacchierati, perché poi diciamocela tutta, non è che siamo arrivati al 2010 come degli agnellini, vi ricordo che nel 2009 Oldrini aveva sentenziato che c'era muro contro muro tra queste due parti, proprio sull'indurbanistica, perché già ne erano volate parecchie di denunce. Quindi io credo che una riflessione doveva essere fatta anche in quel momento, quindi la responsabilità politica c'è tutta, non solo di chi era il sindaco di Alevo, ma anche di suoi assessori, che non hanno sufficientemente vigilato. Poi abbiamo quell'anomalia delle delibere o pareri di giunta, che è tutta che sarà la procura a svilupparla, perché abbiamo una copia autentica che mi è stata rilasciata, che dichiara la non trasferibilità dei volumi, e però è del 2009, firmata da dieci persone, compreso il segretario comunale, l'amministrazione ipotizza che sia riconducibile al 2007, però c'è scritto 2009. Non lo so. E poi mi viene un ulteriore dubbio, ma scusate, se l'ottobre 2007 ha dato un diniego al trasferimento dei 900 DSLP. Tre mesi dopo cosa ha fatto cambiare idea? E ha dato l'assenso a trasferire i 900 DSLP. Perché poi l'atto, se me lo rapportano nel 2007, è dell'ottobre 2007, in realtà la delibere c'è scritto ottobre 2009. Nel gennaio 2008 c'è l'assenso al trasferimento, condizionato per giunta, però nessuno se ne è importato di quel condizionamento, si è per giunta, è evidente che c'è un'anomalia, perché nel 2009 risulterebbe firmato anche dall'assessore Valeriano, che ovviamente sappiamo tutti che non era assessore nel 2009, perché mi sembra che ha finito nel 2008. Quindi è tutta una situazione assai complessa. Prima ho mostrato al segretario comunale una certificazione della Sostaro, che mi dice nel marzo 2008, non quando poi partite voi con il preambolo di dire c'è la concessione edilizia e il permesso di costruire nel 2009, quando poi noi siamo andati a P.I. nel 2010. L'anomalia non è sicuramente. Il signor Laminante deve concludere. Scuso subito. L'anomalia ancora prima, perché io ce l'ho del marzo 2008, e mi dice sì però bisogna vedere il protocollo, per carità va bene, peccato che poi dietro c'è la relata di notifica del messo comunale, che mi dice marzo 2008. E in quella relazione la Sostaro mi dà già il certificato finale di quello che due anni dopo andiamo a provare come P.I. Scusate, ma è evidente che le cifre non tornano e che quindi vada monetizzata tutta quella parte che è vero che può essere costruita, ma non poteva essere fatto in quel modo. Grazie al consigliere Lamiranda. Prima di passare la parola al consigliere Rivolta, per il quale ha chiesto anche la doppia dei tempi, volevo fare una piccola precisazione. Perché io già mi ero espresso in un'altra seduta del consiglio comunale che noi, consiglieri comunali, siamo considerati dalla legge, articolo 331, procedura penale, l'avvocato lo sa meglio di me, dei pubblici ufficiali. E i pubblici ufficiali, nell'esercizio, gli leggo proprio l'articolo, il comma, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, vengono a conoscenze di notizie di reato perseguibile d'ufficio, devono, devono, no possono, devono farne denuncia per iscritto direttamente all'autorità giudiziaria. Non solo riferire qui in consiglio qualcosa, tanto per magari fare dei riferimenti che non hanno ragione. Quindi ognuno di noi si assume le proprie responsabilità, anche se non denuncia. Adesso passa la parola al consigliere. Scusa Andrea, visto la piega che ha preso l'intervento sulla ricostruzione del consigliere alla Miranda, per un order vero, in commissione ci eravamo lasciati sul presupposto che l'assessore Marini aprisse il Consiglio Comunale con delle risposte orali a tutti gli altri consiglieri. Quindi io chiedo un attimo la sospensione del consiglio, ci troviamo con i capigruppo, perché dobbiamo chiarire in che direzione fare andare questo consiglio, perché ci eravamo lasciati in un modo, mi sembra molto chiaro, di portare avanti un dibattito, con le proprie posizioni, ma che fosse preceduto da un'apertura dell'assessore. Grazie, grazie consigliere Capone. Prima di prendere una decisione do la parola al segretario per una precisazione. Prego. Non so se può, sempre come elemento, prima della sospensione che diceva, rispetto al parere dell'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato, delle funzioni di difesa in giudizio e in parallelo, in carattere consultivo, di per sé, l'Avvocatura dello Stato con riferimento agli organi dello Stato. Dopodiché, a livello di normativa, è prevista un'autorizzazione straordinaria, un'estensione delle competenze dell'Avvocatura a una serie di altri soggetti. Faccio riferimento alle università, alcuni istituti. Con riferimento alle regioni c'è una disciplina di carattere particolare, alcuni comuni di regione a stato speciale. per cui i pareri dell'Avvocatura ai comuni non sono l'ordinario, diciamo così. L'Avvocatura dello Stato è l'Avvocatura a servizio degli organismi statali. Mi scusi, consigliere La Miranda, una precisazione. Durante il suo intervento, forse lei ha fatto emergere che era venuta a conoscenze tramite una lettera dalla proprietà in oggetto della costruzione. Quindi, se lei così gentilmente vuole informare tutto il Consiglio di cosa si trattava, forse è meglio. Prego. Qualità di pubblico ufficiale, non l'obbligo. Mi aveva mandato una richiesta di precisazioni sulla situazione che si era creata, lamentandosi che tutti i disguidi erano interni all'amministrazione, l'ho già detto chiaramente, e lamentandosi ovviamente che tutto quello che era successo era un errore tecnico, chiamiamolo impropriamente così, dell'architetto Magnico in uffici tecnici. Quindi io l'ho già detto quello che è, in questa sede, quello che ha detto il soggetto attuatore, che ne era benissima conoscenza che c'erano situazioni che non andavano bene. Io non sto dicendo niente su questa cosa, di più di quello che ho detto. Siccome me lo fa sempre qua dopo il mio intervento il richiamo, e siccome le devo, io le ricordo a lei che sono sopravvissuto a cinque anni di denunce in aula, perché poi dopo alla fine in aula c'erano nomi e cognomi fatti. Quindi, come lei dice, stasera sono stato ben attento a fare nomi di soggetto attuatore e di altri che non devono essere coinvolti in un certo modo. Siccome casualmente lei ogni volta dopo il mio intervento fa questo richiamo, e io so benissimo quello che faccio e quello che dico, le ho detto se lei fa caso i nomi che ho fatto sono tutte di persone che sono state pubblicamente condannate o avevano la responsabilità verticistica di questa amministrazione. Io mi riferivo al fatto della lettera che lei aveva avuto a conoscenza, che c'era stato l'abuso edilizio. Poi c'è la registrazione e la sentiremo con calma. Grazie, grazie consigliere ammirati. È un altro discorso, perché già avrà il suo iter amministrativo, come ve l'ho già detto, sulle delibere, perché qualcuno dovrà chiarire alla Procura come mai c'è tutta questa anomalia nelle dati. Grazie per il chiarimento. Andiamo avanti con gli interventi? Sì, in merito alla richiesta del consigliere Caponi, prego. A nome del gruppo della minoranza, se è possibile sospendere la questione. Allora, io volevo chiedere questo. Dal momento che l'architetto Riganti ha mandato tutta una come si dice, una mail a tutti con tutte le risposte, sinceramente non riesco a capire per quale motivo dobbiamo fare una sospensiva di consiglio. Allora, o riteniamo che le risposte e non sono state... Come? Vabbè, però scusate, la Commissione è una cosa, poi al rispetto... Non andiamo... Consigliere Caponi, per favore. Le risposte sono state date, non capisco come mai dobbiamo sempre tutte le volte ritrovarci in questo modo. No, beh, sono state mandate, come ho detto, nella relazione ai consiglieri presenti della Commissione. Tutti quelli che fanno parte della Commissione. Grazie, consigliere Antonioli. Grazie. Questo non lo so. Andiamo avanti con i lavori. Andiamo avanti con i lavori. Il consigliere nostro ha chiesto la parola. Ne ha facoltà, prego. Grazie. No, io personalmente troverai corretto di o fermarci cinque minuti o, soprattutto, se qualcuno ha delle domande da fare, l'integrazione di quello che l'architetto Riganti ha distribuito a tutti o mi sembra di aver capito a quasi tutti, le faccia in questo momento senza fare una sospensione del consiglio, ma avendo, diciamo, un dialogo, domanda e risposta per chiarire meglio il futuro del dibattito della serata. Perché se no, forse andiamo avanti con alcune cose che a non tutti sono chiare. Io faccio questa proposta. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Grazie, Presidente. Io penso che la questione sia un po' più semplice. In Commissione ci eravamo lasciati dicendo che in Consiglio o l'assessore o il dirigente avrebbero fatto semplicemente un punto della situazione per rendere tutti i consiglieri che non erano presenti in Commissione e dotti di quanto ci siamo detti in Commissione. Io mi aspettavo sinceramente e l'ho detto subito dopo le due relazioni di maggioranza e di minoranza, mi aspettavo che l'assessore facesse un intervento. Così non è stato. È semplicemente da quello che è nato e sorto il nostro dubbio. Poi se l'assessore non lo vuole fare, andiamo avanti. Però così ce l'avamo lasciati in Commissione che avrebbe illustrato quanto poi ci è stato inviato via mail dall'architetto Riganti. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Marini, prego. Grazie, Presidente. L'architetto Riganti ha mandato con via mail una delle risposte su alcuni quesiti tecnici che erano sorti nella seconda Commissione su alcuni aspetti che erano stati sollevati sui quali al momento abbiamo preferito indagare e quindi rispondere successivamente. Mentre il segretario ha affrontato oggi nel suo intervento altri aspetti che erano stati sollevati e che poi il consigliere Lamiranda ha ripreso nel suo discorso. Per la natura molto tecnica di quelle domande non mi sembra a caso di riprendere quanto è già stato spiegato nelle mail. Se però c'è necessità e questo può rendere più semplice il dibattito molto volentieri, ma sono dei punti peraltro non centrali di tutta la questione. mi riservo poi evidentemente di intervenire a precisazione e risposta di alcuni elementi che emergeranno nel dibattito. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. La parola al consigliere Rivolta. Io ero prenotato prima dell'intervento. Si, si, ha chiesto il raddoppio dei tempi, ne ha facoltà, prego. Cercherò di non utilizzarlo tutto, però credo che la discussione di questa sera sia una discussione che abbia un peso e un significato politico molto importante. E quindi a me sembra che si avvene questa discussione in una sede pubblica, nel Consiglio Comunale, che è stato eletto all'indomani di una vicenda e di uno scandalo che ha travolto la città, che ha eletto questi consiglieri con un mandato, che ha fatto delle scelte nel corso di questi mesi e che quindi si assume la responsabilità politica di condividere le scelte della propria maggioranza, della propria amministrazione. Poi ritorno su questa cosa, perché avrei voluto partire facendo una discussione di carattere molto politico su quello che noi stasera discutiamo. Vedo però che ci si ostina in una certa misura a incepparsi, userò questo termine, sulle questioni molto tecniche. Trovo, per esempio, lo voglio dire con molta schiettezza, che aver ricevuto le risposte alle questioni poste in commissione, per mail, con i dati, sia un fatto importante per i consiglieri comunali che questa sera vengono qui a discutere. Perché avere una risposta orale dall'assessore, il rispetto per il pubblico, allora, il rispetto per il pubblico è svolgere questa discussione qui, questa sera, pubblicamente. Dopodiché noi dobbiamo prendere delle decisioni. A me, aver ricevuto quelle risposte prima di venire in consiglio comunale, mi ha permesso di formarmi una convinzione. E anche di costruire, molto schiettamente, un intervento diverso. Ascolti, consigliera, se non ha ricevuto la mail, è un errore di cui l'ufficio si, come dire, farà carico di spiegare la ragione dell'errore per cui non ha ricevuto la mail. Ma questo, però, non può essere messo in carico a me, come ovvio. E' stata mandata ai membri della commissione urbanistica, che erano quella sera in commissione urbanistica. Perché è un capogruppo. Ai capigruppo, ai membri di commissione. Perché i capigruppo sono membri di commissione. Se vogliamo discutere qui, questa sera, di queste cose e non discutere della sostanza, possiamo andare avanti a lungo. Io, della polemica politica, come sanno i sestesi, ci sguazzo. Ci posso andare avanti a lungo. Quindi, però, credo che non sia. Allora, siccome io ho imparato dal consigliere Lamiranda a riguardarmi i verbali dei consigli comunali, io sono andato a guardare il verbale di quel consiglio comunale. Adesso, poi, ognuno... I verbali sono 20 pagine, ognuno può estrapolare una frase, usare quella frase, per inchiodare le persone alle proprie responsabilità. Ma se voi andate a leggere la dichiarazione del consigliere Lamiranda su quella delibera, non dice quello che ha detto questa sera. Dice che non gli torna il conteggio della villa e del magazzino e quindi, per quella ragione, non voterà la delibera. Potrei leggervi tutta la frase, ma siccome i verbali sono sul sito del Comune, consiglio comunale online, consiglio comunale online verbali, andate a vederlo, ve lo trovate, ve lo guardate. Dice, noi non votiamo questa delibera, perché la discussione è innanzitutto sul trasferimento di volumetria dei 900 metri quadri, e quello me lo ricordavo anche a memoria, perché quella sera abbiamo fatto una lunga discussione sul permesso a dimolire, sul permesso a costruire. I 400 metri quadri di sottotetto compaiono, ma così come dire, in alcuni frangenti, ma non sono l'oggetto della discussione. Invece qui, questa sera, sono l'oggetto della discussione, quei famosi 400 metri quadri. Perché sulla trasferimento di volumetria, noi possiamo discutere sull'origine del trasferimento di volumetria, ma il TAR dice chiaramente che i 900 metri quadri possono essere accolti in quel PI. Si doveva fare una pratica assolutamente diversa. Allora, questo è il punto politico. Queste pratiche sono state fatte, come è stato detto dall'assessore Marini, sono state fatte in maniera bizzarra e illegittima, direi illegittima, abbondantemente illegittima, anche se molte delle cose che sono state fatte si potevano fare. I 400 metri, che sappiamo dalla risposta dell'architetto Reganti, erano 400, ma di cui 170 erano già, come dire, comprensivi per le altezze dei sottotetti e quindi già volumetria, come dire, acquisita. Quindi, alla fine, la discussione, sono 230 metri quadri che non sono legittimi. È chiaro? Sono tre appartamenti, perché la dimensione ha un significato. Poi la politica ha un altro significato. Queste pratiche potevano essere fatte, ma dovevano essere fatte in un altro modo. E questo è il punto grave. Ma non perché le pratiche devono essere, assolutamente, sicuramente, le pratiche devono essere fatte come vanno fatte per legge, ma perché nelle pratiche fatte in modo bizzarro, illegittimo, e, come dire, oggetto di una variabile, che è quella del te lo faccio passare anche in un modo, come dire, non legittimo, ci sta lo spazio di quello che è avvenuto a Sesto San Giovanni in questi anni. Perché, se un diritto è legittimo, viene, come dire, non voglio usare il termine largito perché è sbagliato, viene concesso in maniera non legittima, è abbastanza ovvio. perché lì c'è la forza e il ruolo che ricopre un funzionario, un assessore e un architetto. E questo è il fatto più grave. È qui che c'è il danno a questa comunità. È su questa cosa che noi dobbiamo chiedere conto a queste persone. Perché nella gestione di quelle pratiche, in quei termini, c'è lo spazio della corruzione. così come una sentenza di patteggiamento ha, come dire, detto chiaramente. E questo è il problema. Allora, questa discussione su una delibera che è una delle 15 delibere che il perito ha esaminato, è una discussione che va fatta qui, va fatta pubblicamente. Perché non è che si può rimuovere un'altra volta dal dibattito di questo. non saremmo noi a rimuoverlo. Mi scusi, consigliere Lamiranda, lei che dice che noi ci assumiamo una responsabilità, noi ci assumiamo una responsabilità politica di condividere questa scelta. E lo vogliamo fare qui questa sera. Perché nella discussione in commissione che sta bene, che qualche d'uno, tutti quanti noi, abbiamo voluto ridurre a uno scontro sulla registrazione piuttosto che sulla secretazione. noi lì dobbiamo sciogliere delle questioni e affrontare dei nodi. Quello che è successo, com'è successo, perché veramente un conto è sapere che una pratica è sbagliata e concede un diritto che non c'è e un conto è sapere che una pratica concede un diritto che c'era ma viene praticata in tutt'altro modo. Questo non è una roba da poco, non è distrazione, eh? Non si può far passare per distrazione. Le volumetrie sono 2650 metri e quella sera in quel consiglio comunale appunto noi votammo su un plani volumetrico che accoglieva delle delibere, delle volumetrie. Non è vero che io ho detto che non stavamo discutendo. Eh, è estrapolato una frasettina molto semplice ma io dico in quella delibera si discute del plani volumetrico che accoglie il trasferimento di volumetria dei 900 metri quadri. Perfetto. Allora, tutto questo, tutto questo, i 2650 del primo PI, i 900, i 400 e i 550 agli ultimi, che è una volumetria che ogni tanto si dimentica. Chi sa? Però c'è anche quella. no, no, non l'abbiamo votata quella volumetria. 559. Si dimentica anche di dire che questo procedimento di autotutela lo aziona l'amministrazione comunale. Non è che lo aziona qualche di un altro. Sono gli uffici quelli riorganizzati perché bisognerebbe anche dirsi che in commissione consigliare sono venuti l'assessore e il dirigente ci hanno spiegato che cosa è stato fatto, come è stato rivoluzionato quell'ufficio in modo che ci sia maggior controllo, che non ci sia più la possibilità. Io capisco che torna comodo datare la discussione sempre nel passato ma noi oggi ci troviamo ad amministrare la città con questa giunta e con una serie di fatti e azioni positive che sono state fatte. Si è, come dire, ricostrituito l'ufficio si sono cambiate le pratiche si è scelto l'amministrazione comunale sul proposto dell'opposizione ha scelto di avere una commissione che indagasse su queste cose si sono fatte delle scelte rispetto ai consulenti rispetto agli avvocati e certo per l'opposizione o per chi vuole fare battaglia politica datare tutto e riportarlo all'epoca precedente torna comodo è vero torna comodo torna molto comodo però non è che si possono dire non è che si può dire che questa discussione non deve avvenire qui noi ci assumeremo la responsabilità consigliere la Miranda lei io ho stima e rispetto per il suo lavoro da Perry Mason e bisogna anche riconoscerle un ruolo e non è che non glielo riconosco e vede però mi viene ogni tanto in mente la storia anche questa sera lei ha fatto del terrorismo rispetto all'assunzione di responsabilità però vede poi le combinazioni sono bizzarre lei è stato presentatore di un ordine del giorno su Afol Nord Milano in cui chiedeva gli azzeramenti di tutti i vertici e parlava di cose nefaste che avvenivano in Afol Nord Milano cosa che non è stata assolutamente vera perché Afol Nord Milano è assolutamente ben amministrata ma combinazione vuole che oggi anziché forse rivolgere tutta quella tensione su Afol Nord Milano forse il PDL avrebbe dovuto rivolgerla ad Afol Milano che come dire oggi giorno è oggetto di tante discussioni allora io le riconosco un ruolo però non capisco qual è la ragione per cui lei questa sera viene qui e dice tutto ciò non bisognava farlo qua dentro siamo in un'epoca in cui tutto va in streaming oppure no era un'altra epoca poi in una settimana è cambiato tutto tutto va in streaming ma la discussione in consiglio comunale su quello che non è soltanto la delibera ha ragione lei quando dice qui noi oggi come dire facciamo come si dice facciamo giudorisprudenza si dice nel vostro settore scegliamo facciamo delle scelte innanzitutto lei sa benissimo che via Pisa sono due villette costruite nel parco della media valle dell'ambro non è la stessa roba parco della media valle dell'ambro interesse pubblico a tutelare un parco e quindi se in quel caso si procederà alla demolizione in maniera diversa è perché non è che si fa una scelta che è uguale per tutti proprio perché c'è l'interesse pubblico l'interesse pubblico è il rapporto a quello che si discute e quindi evidentemente un conto è una villetta in un parco un conto è una casa che ha costruito 230 metri quadri non legittimi in un condominio in una zona in cui le altezze se andate a verificare sono quelle comperate da 40 famiglie perché poi io non so e non voglio cioè no farebbe un parere all'avvocatura di stato quanto tempo richiede quanto tempo richiede cosa significa il fermo di un cantiere perché poi lei fa l'avvocato e è molto bravo ma se noi avessimo fatto un'operazione diversa e l'avessimo portato in giunta lei ci avrebbe attaccato avrebbe detto che nel chiuso di una giunta c'è stato un atto di giunta che invece doveva essere pubblico quando la giunta il 18 di agosto del 2011 ha fatto un passaggio di giunta rispetto al P.I. delle Fai che era un passaggio di giunta questo è stato detto lo avete fatto ad agosto il 18 di agosto perché così almeno nessuno vi poteva verificare e controllare oggi veniamo in consiglio e la frittate dall'altra parte però insomma è un po' io credo che noi facciamo bene a fare questa discussione questa sera dobbiamo scegliere a malincuore perché è chiaro che una pratica illegittima è una ferita lo è per prima per un'amministrazione comunale corretta una pratica illegittima ferisce profondamente perché è una roba che non corrisponde è una pratica illegittima ma non sussistono come dice l'avvocato il consulente vorrei capire che siamo in un paese in cui ci sono sempre una perizia che dice una cosa e c'è sempre una perizia che dice il contrario c'è sempre un consulente che dice A e c'è sempre un consulente che dice B il problema è che quando si governa una città bisogna assumersi una responsabilità e allora dobbiamo discutere c'è una ragione fondata per sospendere distruggere quei 230 metri quadri no lo ha detto lei stesso per primo e quindi noi oggi dobbiamo votare la rivoca di quel procedimento tutto qui i conteggi sugli oneri di urbanizzazione sugli standard sono corretti nella risposta dell'architetto Riganti è spiegato che sono corretti lei ritiene che non sono corretti fantastico ci sarà un'ulteriore verifica ma è stato spiegato anche perché nel permesso a costruire gli oneri di urbanizzazione sono già corcolati e nel permesso a costruire quelle metrature ci sono tutte quindi non è che uno può discutere sul permesso a costruire sugli oneri di costruzione perché quando si rilascia il permesso a costruire si fa il conteggio e si calcola dopodiché ci sono delle risposte dell'architetto Riganti se volete quella singola risposta si dà quindi è un po' artificioso porre delle questioni a cui si è già ottenuto delle risposte insomma io credo che e vado a chiudere non userò quindi più altro tempo credo che noi è anche originale che lei porti una consulenza della Sostaro rispetto alla non possibilità di demolire cioè adesso onestamente credo che rispetto a questa cosa l'amministrazione comunale chiederà un'altra perizia perché non credo che possa utilizzare una perizia dell'architetto del dirigente Sostaro dopo tutto quello che è avvenuto tant'è vero che credo che l'assessore Marini potrà rispondere si sta procedendo nei confronti della cinematografia estense perché quel corpo di fabbrica che come disse in consiglio comunale se mi affaccio lo vedo perché è davanti a casa mia verrà demolito oppure verrà acquisito dall'amministrazione comunale perché queste sono le due possibilità è una pratica che come tante pratiche che sono nei confronti del titolare della cinematografica a se stese diciamo di Caterina non abbiamo nessun problema non ho nessun prurito nessuna preoccupazione sono tante quelle che l'amministrazione questa amministrazione comunale e le precedenti hanno azionato noi crediamo che si debba proseguire in questa direzione così come si è fatto quando ci si è costituiti parte civile così come chiediamo con un ordine del giorno presentato questa sera dalle forze di maggioranza che si prosega su questa strada cioè che si chieda alle persone a cui va chiesto di rispondere dei danni che sono stati provocati all'amministrazione comunale alla città sapendo una cosa ben precisa che il danno più grosso è il danno d'immagine che è il danno alla politica alla città è un danno che riguarda tutti quanti noi come lei sa consigliere Lagranda in questa vicenda ci sono molte più trasversalità di quelle che noi immaginiamo quella delibera quella sera è vero noi siamo folli e come disse la consigliera Landucci votiamo gli asini che volano noi siamo rimasti in consiglio quella sera qualche d'uno non ha neanche votato contro ha preso ed è uscito sì ma io sto solo citando una sua dotta frase sto dicendo un'altra cosa consigliere Landucci che noi lei il consigliere Lamiranda e altri sono rimasti chi a votare contro e chi a votare a favore qualcuno invece è uscito dall'aula non era nei banchi della maggioranza non era nei banchi della maggioranza quindi io vado avanti consigliere conclude che gli mancano due minuti prego consigliere rivolto consigliere Landucci per favore lascia terminare l'intervento grazie consigliere Landucci per favore del merito del merito consigliere Landucci per favore vado avanti consigliere rivolto prego non capisco questa abitudine poi interrompere non mi è mai piaciuta del merito è il merito di una procedimento di revoca di un'auto sospension di un'auto tutela non esistono come è stato spiegato avete il parere tutti quanti le ragioni per ricorrere alla demolizione di 230 metri quadri di appartamenti illegittimi non esistono non sussistono perché erano già inclusi nel permesso a costruire per una serie di ragioni perché quella roba lì non è un danno come può essere una villetta del parco per una serie di ragioni perché il giardino consigliere la miranda lei lo sa e questo però onestamente non le perdono il giardino è lì pronto da essere inaugurato non è che si può dire non c'è chissà se sarà fatto è lì pronto se lei gira dietro via via io ho l'abitudine di girare di andare a vedere come dire di persona le cose di cui discuto mi aiuta mi aiuta sono andata a vedere via cavallotti 218 dove è sono andata a vedere una serie di cose ci sono già pronti i giardini e bisogna fare l'inaugurazione quindi c'è c'è tutto allora non mettiamo nella discussione degli elementi di dubbio su cose che tutti sappiamo che non avvengono questo sì per rispetto di chi ci ascolta perché chi ci ascolta non è stato a in via le casiraghi a verificare se i giardinetti cioè se lo standard è stato costruito lo standard c'è è stato costruito allora dire che non si sa se c'è quando tutti sappiamo che c'è ma qualche d'uno potrebbe pensare che non c'è questo è avere poco rispetto delle persone che ascoltano il dibattito perché il giardinetto c'è ci sono i giochi va inaugurato credo anche che sia stato intitolato che fa parte di quei giardini che su cui quest'estate c'è stato il referendum la consultazione sui nomi c'è tutto allora dire che non si sa se c'è o non c'è è un modo come dire insinuante per dire che noi non ci facciamo rispettare concludo perché poi ci sarà l'oggetto dell'ordine del giorno su cui potremo come dire discutere grazie buonasera grazie consigliere rivolta quindi sono aperti gli interventi grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. Devo dire che l'assessore ha avuto anche il non facile compito di dover dare un giudizio sulle procedure che gli è stato chiesto, che hanno accompagnato tutto questo lungo viaggio di questo PI. In molti passaggi il termine da lui usato è stato bizzarro, come è stato ricordato dagli altri consiglieri. Dopodiché ho assistito alla discussione dei consiglieri, alle domande di chiarimento e alle garanzie chieste tramite l'intervento dell'Avvocatura di Stato per quello che riguarda la carenza di pubblico interesse e della Corte dei Conti per la congruità economica, prima che questa decisione arrivasse in Consiglio Comunale. Questo a tutela dei consiglieri, anche perché in Commissione più volte è stato richiamato il famoso passaggio nel Consiglio Comunale del gennaio 2010, che ha portato all'approvazione del Plani Volumetrico. Mi scusi consigliere Rivolta, ma io l'ho interpretata un po' come dire, ma voi dove eravate? Questa decisione l'avete presa anche voi in Consiglio Comunale. Così mi sono andata a leggere prima le delibere di giunta che hanno portato a quel Consiglio Comunale e poi gli interventi fatti in quella sede. Quello che ho letto è stato il consigliere Lamiranda che rilegge i numeri dando un'attenta interpretazione, perché poi in Commissione le bizzarrie segnalate dall'assessore Marini corrispondevano a quello detto in quel Consiglio Comunale dal consigliere Lamiranda. La consigliere Landucci, che si soffermava sull'iter amministrativo riguardante lo spostamento dell'SLP dell'Apollo e sulla presunta demolizione, e il consigliere Lacorte, che denunciava la poca trasparenza nel fornire documentazione che eviti il dubbio nei consiglieri, e che secondo me enuncia un concetto molto importante nel suo intervento. Parla di alcuni abitanti che si erano ritrovati per la questione del treachi e dice che questi consiglieri agli abitanti dicevano ma io ho votato una cosa che a me sembrava diversa. In realtà loro avevano votato, dice il consigliere Lacorte, quello che avevano votato, che è quello che è stato fatto, ma erano incappati probabilmente in alcuni errori non potendo conoscere, non essendoci dentro, tutto nella delibera. Per cui molte volte bisogna fare uno sforzo in mane per capire di che cosa si sta parlando. E questo è quello che succede abbastanza spesso, perlomeno a me. Bene, a distanza di due anni e mezzo, mi sembra di leggere da quello che è successo a quello che stiamo dicendo ora, che carta canta, nel senso che quello che era stato detto poi è stato riportato in un elenco dettagliato dall'assessore Marini. D'altronde non voglio nemmeno considerare la mala fede del Consiglio nell'esprimere un voto favorevole. Preferisco pensare che ci sia stata una cieca fiducia, come enunciava il consigliere Rivolta, sempre in quel Consiglio, aperte le virgolette, verso gli uffici in grado di vigilare su quello che avviene in città. Che tutto questo abbia portato a un voto espresso in piena serenità, si dice sempre in quel verbale, nell'approvazione del planivolumetrico. Io credo, dall'idea che mi sono fatta cercando di raccapezzarmi in tutta questa vicenda, che non siano andate proprio così le cose, che rivotare senza essere certi di quello che stiamo votando sia un pochino sciocco. Così come credo che scaricare le decisioni finali dando l'ultima parola al Consiglio ora, beh, credo che questa partita vada chiusa da chi l'ha aperta e che se ne assuma la sua responsabilità politica. Hanno espresso allora voto favorevole, hanno espresso oggi voto favorevole alla delibera e ora completino loro la procedura che anche allora ritenevano perfetta, trasparente e serena, per usare un termine sempre di quel Consiglio. Per noi le richieste fatte dal resto dell'opposizione e i dubbi ancora vacanti sono leciti e in attesa di risposta. È vero che passare dal Consiglio Comunale dimostra apertura e fa parte di un iter più completo, come spiegava l'assessore durante la commissione, che secondo lui sarebbe stato auspicabile anche in passato. Però non si può usare il Consiglio a proprio piacimento per chiudere una pratica facendo finta che tutto quello che c'è stato prima sia andato bene e vada confermato così com'è. Grazie. Grazie alla consigliera Ioso. Grazie. Ha chiesto la parola alla consigliera Franciosi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Sono state già dette diverse cose, tante cose, su questa delibera ed è chiaro che ci siano, almeno per questa parte dei banchi, dei punti poco chiari e che non ci permettono di affrontare la votazione con la serenità necessaria. C'è un aspetto però che io mi sento di voler sottolineare, ne aveva fatto giustamente menzione il Consigliere Lamiranda durante il suo intervento e riguarda il riscatto della quota edilizia pubblica. Vorrei analizzare proprio questa questione per farvi notare che anche in questo procedimento c'è qualcosa di poco chiaro, benché l'architetto Riganti abbia detto che la quota monetaria rispetto al riscatto della quota edilizia pubblica sia corretta. Vorrei fare un passo indietro e parlare proprio dell'aspetto dell'edilizia pubblica a Sesto San Giovanni. È noto che a Sesto in questo periodo l'offerta di case a canone calmerato è manchevole. È sufficiente osservare la lunga lista d'attesa delle famiglie che hanno fatto richiesta di accedere alle case popolari. Come ci risulta, la cifra ad oggi si aggira intorno al migliaio di famiglie. E queste famiglie hanno tutte il diritto di accedere ad una casa popolare. Non solo queste richieste sono state accolte. Però qual è il problema? È che non c'è l'offerta per poter soddisfare questa richiesta. Il PRG prevede che il 20% delle nuove costruzioni sia fatto di case a canone sociale. Non solo, ma nello scorso settembre noi abbiamo votato, anzi avete votato perché noi ci siamo tirati fuori dalla votazione, una delibera con la quale veniva addirittura innalzato al 40% questa percentuale, quantomeno nei casi previsti dal piano casa 2. Questo vuol dire che l'amministrazione sente l'esigenza di offrire un aiuto alle famiglie che hanno bisogno. Però quando poi c'è da applicare queste percentuali si trova sempre una valida alternativa per andare incontro al costruttore. Tornando al PI Carmine, la monetizzazione relativa alla percentuale prevista dal PI di alloggi per l'edilizia convenzionata è stata calcolata a partire dai 2.600 metri quadrati ed è nell'intorno dei 137.000 euro, come contributo da destinare al fondo di sostegno all'affitto. Da qui poi in relazione l'architetto Magni riferisce l'interesse sociale di questo intervento. Siccome però alla fine i metri quadrati sono diventati circa 4.400-4.500, cifra più cifra meno, vorrei capire come è stato risolto il problema della porzione dell'edilizia convenzionata. Se per i 2.656 metri quadrati il contributo è stato di circa 137.000 euro, e io queste cifre le ho prese tutte dal CTU, allora per una SLP di circa 4.400-4.500 il contributo dovrebbe essere all'incirca 230.000 euro. Facendo quindi conti, sembra, a quanto meno a me, che manchino all'appello 90.000 euro. Però vorrei farvi vedere il problema da un altro aspetto, ed è la cosa che abbiamo più volte cercato di sottolineare in questi mesi. Quanti appartamenti in edilizia privata ad oggi sono vuoti? Purtroppo troppi. Cosa che invece manca nell'edilizia pubblica, non ci sono alloggi a disposizione. Quante famiglie, se stesi quindi, che hanno bisogno di un alloggio pubblico, rimangono senza casa? Allora, forse con questo PII, se si fosse voluto fare veramente un servizio socialmente utile, si sarebbe potuto evitare di monetizzare e di dare invece al canone convenzionato i metri quadri che sarebbero stati previsti. In circa 900 metri quadrati, che rappresentano il 20% dei 4.500, io penso che sarebbero venuti fuori una decina di alloggi, sicuramente non sufficienti per far fronte a tutta la richiesta sul nostro territorio, ma quantomeno sarebbe stato un inizio. Se quindi l'iter amministrativo relativo a questa pratica è viziato, perché anche in questo caso io ritengo, noi riteniamo che questa pratica sia viziata, riteniamo anche che la delibera finale, quella di cui dobbiamo decidere stasera lo sia, perché è vero che noi dobbiamo decidere su 230 metri quadrati, come riferito dal consigliere Rivolta, ma è tutto il piano in realtà che rientra all'interno di questa delibera. Non possiamo concludere un iter di questo tipo che è viziato con un'ulteriore delibera che non ci riguarda. Come più volte ho sottolineato dalla maggioranza, voi vi siete presi l'onere e l'onore di governare questa città. Avete più volte rimarcato il fatto che responsabilmente voi avrete preso delle decisioni più giuste per questa città. Anche in questo caso vi invitiamo a farlo e ad approvarvi da soli la delibera. Noi irresponsabilmente ci sfiliamo dall'onore di esprimere un parere favorevole e daremo un parere negativo, a meno che la Giunta non ritenga più opportuno ritirare la delibera e ritornare in Commissione e sviscerare tutta la questione in Commissione e poi tornare in Consiglio per approvare se c'è qualcosa da approvare. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà, prego. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Sicuramente questa sera, che non sarà la prima sera, discuteremo di un qualcosa che è successo in passato, che continuiamo a dire bizzarro ma che probabilmente ha un altro sinonimo ben più forte che è qualcosa di brutto, apro virgolette schifoso, chiudo, che però sicuramente abbiamo preso in considerazione ciò che è successo e ponendoci in questo caso inizialmente in autotutela e negli altri casi dichiarandoci parte civile in queste cause, sicuramente abbiamo preso atto che qualcosa di non corretto in passato è stato fatto. Questo secondo me mi sembra un buon atto, un atto umile, un atto che probabilmente non tutte le amministrazioni fanno. È vero, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti di un qualcosa che è successo in passato. Forse era meglio che non facevamo nulla e che in passato non accadesse nient'altro. Qui stasera stiamo discutendo di una delibera ed è di questo su cui mi vorrei soffermare, non vorrei parlare d'altro. Mi fa piacere che la consigliera Franciosi abbia elencato alcune cose, tra cui il fatto che trovo assurdo in una città come la nostra continuare a costruire. C'è talmente tanto di quello sfitto che o si riqualifica o fermiamoci a costruire. Lo dico con tutta la sincerità che a volte forse mi contraddistingue, mi mette tra virgolette come una mina vagante in certe posizioni. Però ritengo opportuno dirlo con tutta la sincerità e il cuore. Fermiamoci perché siamo un po' saturi. E questo può essere un qualcosa che... Volevo a questo punto fare una provocazione e poi fare due proposte, perché il Consiglio serve soprattutto a questo. Vi sono 230 metri quadri in più in questa delibera che stiamo votando e in questo progetto che si sta ultimando. Sono tre appartamenti come qualcuno prima di me giustamente ha evidenziato. Allora vado ancora oltre come provocazione. Diamo questi appartamenti a persone che ne hanno bisogno. Diamo questi appartamenti a persone che hanno uno sfratto esecutivo e diamogli le cani in agevolato. Io sto andando oltre. Facciamo vedere che abbiamo una volontà di un certo tipo, che abbiamo capito che cosa è successo e che dobbiamo capire cosa non dovrà più accadere in futuro. È un risarcimento anche questo che potremmo ridare alla città. Questa è una prima proposta, provocazione, che mi sento di fare. La trovo corretta perché c'è veramente fame di case ed è assurdo avere fame di case con tutte quelle sfitte che abbiamo. Evidentemente la domanda e l'offerta non funzionano più economicamente perché gli appartamenti dovrebbero costare nulla. Dovrebbero costare più un chilo di pasta forse che un appartamento oggi. Invece è il contrario. Quindi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Forse lo sappiamo tutti. Evidentemente non riusciamo a metterci freno. Le proposte che volevo fare sono due. Io leggo nella delibera a un certo punto che quale ulteriore aggiuntivo contributo nell'interesse della città lettera con la quale al fine di conseguire un maggior pregio della zona e via dicendo si danno alla concorrenza fino a 85.000 euro per riqualificare via Picardi che leggo testualmente sono già deliberate dal comune questi progetti e sono oggetto di progettazione preliminare. Allora a questo punto dico se sono già stati deliberati dal comune perché presumo che il comune già sapeva o intuiva dove prendere i denari per fare questa via Picardi e quindi restaurarla o risistemarla o ristellizzarla come si usa dire oggi. Però usiamo questi 85.000 euro a mio avviso per sistemare i giardini di Diopicardi che i giardini di Diopicardi sono in uno stato e apro ancora qui le virgolette perché siamo tra persone civili penoso non vado oltre sono degli acquitrini viventi sono invivibili non si sa cosa sono sono due giostrine che sono rotte da sei anni a questa parte e quindi cerchiamo di o li riqualifichiamo piuttosto facciamone un parcheggio perché così non si sa assolutamente cosa sia del parcheggio è stata una cosa assurda che ho detto però era per capire il fatto che non esistono quei giardini quindi riqualifichiamo quei giardini e io visto che leggo già deliberata dal comune utilizzerei quei nuovi a questo punto 85.000 euro per far sì che vengano sistemati quei giardini che è da tanto che lo chiedono. La seconda proposta che faccio è che prima di demolire un volume e parlo dei 900.000 metri quadri dei 900 metri quadri chiedo scusa del vecchio Cinema Polla bisogna stare molto attenti bisogna pensarci tante volte e bisogna fare secondo me dei passi indietro perché forse un utilizzo sociale un utilizzo al servizio pubblico anche dato in gestione ovviamente visto le poche risorse di bilancio che abbiamo poteva e può essere un'occasione ed è secondo me da prendere in considerazione questa cosa le associazioni se stese sono tante sono attive hanno voglia di partecipare ma hanno bisogno di spazio hanno bisogno di vita hanno bisogno veramente di metri quadrati in cui fare le loro attività usiamo questo spazio per far sì che le associazioni o chi per esso facciano veramente quello che hanno sempre fatto negli anni a San Giovanni ossia attività di volontariato e attività di ritorno verso la città quindi non buttiamoli ma usiamoli per quanto riguarda la comunità se stese grazie grazie al consigliere Nossa ha chiesto la parola la consigliera Landucci con il raddoppio dei temi grazie nella facoltà prego grazie presidente ma io ho ascoltato devo dire con molta attenzione quello che ha detto il consigliere Rivolta e ho guardato anche il verbale che anche il consigliere della Miranda ha opportunamente stampato e devo dire che mi ritrovo in quello che ha detto la consigliera Iosa cioè che è successo esattamente quello che avevamo detto noi ma parola per parola cioè le criticità che noi avevamo sollevato sono quelle che sono immerse ma non perché noi fossimo particolarmente intelligenti ma perché non ci avevamo messi le fette di prosciutto sugli occhi perché era era palese quello che stava succedendo palese palmare oltretutto cioè facciamo il gioco delle tre carte perché qui l'amministrazione è in piena continuità perfettamente votata dalla cittadinaria i cittadini che evidentemente ne erano molto felici ma la responsabilità della giunta Oldrini ricade esattamente su questa amministrazione non perché sia figlia ma perché è la stessa la stessa cosa cioè non c'è Oldrini perché materialmente non si poteva ricandidare ma è esattamente in perfetta continuità quindi andiamo a nasconderci dietro dita che non esistono ma quello che a me colpisce è che io vorrei evitare tutti questi giochi di cui non entro anche perché non sono capace cioè non sono un architetto sicuramente l'architetto Maria è molto più bravo di me l'architetto Riganti lo stesso cioè gli avvocati sono più bravi di me a cercare come dire il cavillo giuridico più o meno giusto quello che io dico è qualunque cosa sia c'è un altro mostro a sesto ma l'avete visto cosa c'è in quel posto dove c'era una villetta ma l'avete visto cosa è venuto su anche per le case come dire anche per le case convenzionate perché non ci sono ma proprio dobbiamo proprio solo fare mostri noi sempre naturalmente per il bene del popolo perché ci sono i giardinetti non so che cavolo di giardinetti ci saranno due altalene e per due altalene abbiamo due robe così che per tutta la vita avremo qui sullo storico cioè non possiamo fare qualcosa che sia non dico bello perché a sesto parlare di bellezza cioè sembra una roba proibita dalla legge ma almeno decente che non sia proprio un cazzotto in un occhio per gli spazi cioè io dico anche all'architetto Marie che mi pare anche una persona intelligente ma non ha vergogna di vedere quella roba che c'è lì di vedere ma non perché sia colpa lui mi sembra ma quando passa di lì non gli viene da vomitare a me sì cioè è una cosa c'era una villetta ci sono 4.500 metri quadri di superficie calpestabile siamo partiti con 2.000 ma dico ma è una roba veramente incredibile in un momento in cui come dice Nosa che però continua a stare lì tranquillo a votare in cui non bisogna più costruire niente perché c'è fin troppo abbiamo troppe case dobbiamo riqualificare su quello che dobbiamo far vivere l'edilizia perché altrimenti alla fine avremo soltanto cubature enormi che resteranno vuote cioè è cambiato il tempo ho capito che le giunte di Sesto hanno campato negli ultimi 40 anni costruendo mostri dopo mostri che resteranno per i prossimi 300 anni a sconciare questa città perché non solo questa città naturalmente tutta Italia che ha pagato prezzi terribili nel dopoguerra ma noi siamo un esempio notevole di quello che cioè quanto di peggio si poteva fare è stato fatto qui a Rimini in Tosca devo dire che in questo per lo meno come ho sempre detto io all'altro sindaco almeno nel sud le fanno abusive per cui c'è almeno la speranza di poterle prima o poi abbattere qui abbiamo anche i permessi perché gli diamo anche i permessi per fare questa cosa cioè io non so come si possa avere il permesso di fare queste cose qui sono cose che veramente gridano vendetta a Dio parlavo una volta no sentivo una volta Filippo D'Avereo che ha detto che se noi guardiamo l'architettura italiana fino al 1940 dal medioevo in poi potremmo anche parlare di quelle romane ma dal medioevo in poi praticamente non c'è un palazzo che non sia bene se guardiamo l'architettura italiana dal 1945 in poi non ce n'è uno che non sia brutto è una condanna che dobbiamo lasciare sulla testa dei nostri figli e dei nostri nipoti cioè tutti questi interventi uno peggio dell'altro tutto fatto per come dire perché i comuni possono lucrare solo su questo e non mi si venga a dire che non ci si era accorti che erano ma scalzonate perché si vedeva lontano un miglio cos'era la banda che c'era lì quando noi l'abbiamo denunciata la banda voi come un solo uomo avete difeso l'assessore l'assessore di leva e tutta la sua banda come un solo uomo scandalizzati perché qualcuno osava dire qualcosa non diciamo poi dopo quando siete stati messi davanti al fatto che è finito in galera insomma a quel punto allora non lo conosceva più nessuno allora era tutto voi non sapevate niente non ho visto niente non ho sentito niente sincero dormivo e ora è lo stesso perché adesso rivotate una roba invotabile perché secondo me bisogna buttarli giù questi questi metri quadri in più l'hanno costruiti pazienza perché se non cominciamo a farglieli buttare giù ma cosa paghiamo con fino a 85 mila metri e no 85 mila euro a fare in quella povera via Picardi che già era brutta di suo ma che ora con l'arredo urbano fa veramente schifo perché io vorrei vedere se qualcuno di voi non è passato al sabato mattina io ci passo tutte le mattine tornando da fare la spesa no in cui praticamente sono tutte macchine sole non si passa più perché siccome avete allargato i marciapiedi la gente cosa fa nel marciapiedi non c'è nessuno praticamente ma le macchine sono come prima solo che siccome la scarreggiata è dimezzata non ci si passa più tutti felici contenti un disastro i giardini come diceva il collega nostra non sono giardini sono robe ridicole no? ridicole e vergognose di cui non c'è neanche da parlare quindi basta non ci fate più niente in via Picardi lasciatela così perché tanto se non la peggiorate perché ogni volta io vedo adesso cosa sta avvenendo in piazza Oldrini e dico che era meglio prima Dio ci scampi di quell'affare a U che sta avvenendo tettone una roba tremenda che non so cosa servirà poi non so cosa ci faremo ma è comunque una roba mostruosa perché noi non sappiamo costruire se non cose mostruose come la chiesa di via Pisa così ha collaborato anche la chiesa cattolica a sconciare definitivamente questa città ma io dico allora è chiaro che questo intervento è un intervento altamente speculativo che è stato costruito dalla banda dei quattro che agiva in città e che di cui voi se non ve ne eravate accorti è perché non volete vedere ma tanto come ha detto la consigliera di Pietra la consigliera Pietra ha detto l'altra volta quando il consigliere Lamiranda ha detto attenzione alla Corte dei Conti ha detto a noi cosa ce ne importa della Corte e il giorno dopo è arrivato fuori che il direttore generale deve ripagare le consulenze per cui a voi cosa ve ne importa vi chiameranno a ripagare i debiti tanto a voi non ve ne importa niente la Corte dei Conti perché la Corte dei Conti va piano però va lontano quindi se c'è da ripagare prima o poi vi chiama a ripagare perché questo è chiaro che piano piano vi chiama a ripagare in questo caso l'unica cosa che deve fare il Consiglio Comunale è dire alla Giunta noi ci vergogniamo di quello che abbiamo votato quattro anni fa ci vergogniamo semplicemente vogliamo chiediamo scusa alla città per non aver dato retto all'opposizione che aveva visto benissimo gli imbrogli che c'erano siamo stati ciechi non vogliamo essere più ciechi a questo punto vi diamo il mandato di chiudere il maggior numero delle partite possibili annullate quello che c'è di illegittimo non vogliamo soldi sporchi perché non è vero come diceva Vespasiano che pecunia non ho le questa pecunia puzza molto devo dire che siamo stati già abbastanza impestati da questo tipo di pecunia molto impestati qui a Sesto forse è meglio rinunciare quello che c'è in più lo buttiamo giù e la piantiamo con questi trasferimenti di superficie perché io allora ho fatto un intervento in cui dicevo prima di costruire i 900 metri devono essere demoliti e non lo sono e non lo sono neanche adesso ma i 900 metri sono stati fatti e se erano legittimi vuol dire che c'è un PGT che fa schifo perché poter spostare i 900 metri di metri quadrati di superficie calpestabile in modo che dove c'era una villetta ci venga un grattacielo vuol dire non avere rispetto del territorio vuol dire continuare a consumare suolo quando di suolo non ne abbiamo più dopo aver adesso dimezzato ma tanto non lo dimezziamo perché adesso come tutti ormai dicono la città della salute dorme il sonno del giusto e mi pare che ci cominciamo a rimpallare le responsabilità su chi deve pagare le bonifiche perché tutti adesso le bonifiche vanno pagate tutti si guardano in tasca e dico ma noi veramente non abbiamo un euro chi è che paga queste bonifiche però in ogni caso anche quello si faceva dimezzando il parco e adesso il consigliere rivolta mi viene a raccontare che c'è un giardinetto inaugurato con il nome di non so chi ecco va bene immagino cosa sarà e noi scontiamo 100 metri quadri con 4.000 metri quadri di superficie c'era una villetta abbiamo tirato fuori 4.500 metri quadri di superficie calpestabile se li hanno venduti restituiranno i soldi e chi ha comprato andrà a prendere un'altra casa ce ne sono moltissime in vendita non c'è in questo momento problema anzi a costi anche minori perché devo dire io non credo che io per me per quanto mi riguarda io credo che non si possa sanare niente che bisogna cominciare a dire che questi procedimenti che sono stati votati da un consiglio comunale cieco che obbediva una banda di delinquenti e gli era stato detto che c'era una banda di delinquenti ecco a cui non hanno voluto credere fin quando non sono finiti in galera perché questa è la verità perché questa è la verità come risulta chiaramente da questo verbale del gennaio 2010 non possono essere sanati io per quanto mi credo che gli 85 mila euro non li dobbiamo volere dobbiamo far buttare giù quello che è illegittimo e dire che non si fanno più spostamenti di superficie calpestabile non si sposta niente perché Sesto ha già subito troppo dal punto di vista dell'architettura subito veramente troppo e non possiamo continuare a illudere i nostri che in cambio di mostri gli diamo il contentino negli anni 70 si diceva si facevano le scuole adesso ce ne sono anche troppe di scuole quindi non si può più dire adesso diciamo che facciamo i giardini perché adesso vanno di moda i giardini no? un mostro e in cambio un giardinetto no io non voglio né il mostro né quel giardinetto lì perché se non facciamo il mostro c'è lo spazio per più giardinetto sicuramente benissimo benissimo meglio allora scusi lei preferisce avere 100 metri quadri lei preferisce avere 100 metri quadri di giardinetto per avere due mostri così per avere quello no lei si che mi ha obbedito lei ha votato quello che le diceva la Sostaro e magna e di leva lei ha votato per anni lei ha votato per anni nonostante quello che dicevano noi consiglio ha votato per anni sì lei ha votato per anni lei ha votato per anni lei ha votato per anni Quello che le proponeva Dileva con l'appoggio della Sostaro e di Magni anche quando noi le dicevamo che erano mascalzonate l'ha votato per anni dicendo che erano le cose migliori del mondo e quando noi abbiamo chiesto di parlare dei legami di Dileva con Magni lei ha appoggiato quello che ha detto il sindaco Drini cioè che non si doveva neanche discutere di quella cosa lì perché ne andava dell'onorabilità dell'assessore Dileva. Non è così. Ah no? Lei non difendeva l'assessore Dileva? Non votava quello che proponeva? Lei mente sapendo di mentire. Lei mente sapendo di mentire. Vado avanti consigliere Landucci senza per cortesia non faccio riferimento. Quindi che la politica è anche questo. Non sono interventi fatti al vento. È chiaro? Quindi noi qui, io qui dico che secondo me quello che ora è stato palesato dall'autorità giudiziaria, dalla perizia, era già chiaro allora. Come noi avevamo chiaramente detto, chiaramente detto, come ha detto in maniera del tutto oggettiva la consigliera Iosa che allora non era né qui né dall'altra parte. Quindi voi continuate se stasera come farete? Come un solo uomo. Come un solo uomo. Perché avete sempre votato tutto quello che vi è stato messo davanti. Qualunque cosa vi sia stato detto contro. Voi voterete e voterete ancora una volta la continuazione dello sconcio della nostra città. Naturalmente questi avranno guadagnato centinaia di migliaia di euro e voi in cambio gli chiedete fino a 85 mila euro. Non avete neanche il pudore di dire qual è il minimo. E se per mettere a posto di apicarli spendono 10 mila euro vanno bene. Perché nella vostra delibera c'è scritto fino a 85 mila euro. Non c'è un minimo. C'è solo un massimo. Se il minimo è 10 mila saranno contenti. Ma poi 85 mila euro. C'è meno del costo di un bilocale. Ma non avete vergogna. Fate sanare una cosa del genere per meno del... neanche un monolocale costa... Consigliere Landucci però no lei non deve dire parole offensive. Non avete vergogna. No. Non c'è da vergognarsi. Lei faccia il suo intervento politico ma non si riferisce... non avete vergogna cosa vuol dire? Non vi vergognate. E no non lo può dire. Non lo può dire. Io lo dico. Faccia un po' lei. Io lo dico lo stesso. Veda un po'. Allora questa è la realtà. Quindi se voi credete in questo modo di salvarvi l'anno, salvatelo. Io credo che a questo punto dovrebbe dire noi vogliamo che chi ha sbagliato paghi. Ma non soltanto chi ha pagato col processo e con tutto. Ma anche chi ha lucrato su queste cose qui. La dico stiamo scherzando. Ma in questa situazione di crisi veramente facciamo passare una cosa del genere. Io sono senza parole. Veramente senza parole. Non c'è interesse pubblico. Cioè non c'è interesse pubblico a evitare una speculazione di questo genere. Non c'è interesse pubblico. Io non lo so. E cos'è l'interesse pubblico? Quando c'è interesse pubblico? Sono veramente senza parole. Di fronte alla protervia di queste posizioni. Alla protervia di chi? Oggi dice che non ha mai votato quello che diceva di leva. Ma che vergogna! Ma come si permette di dire una cosa così? L'ha votato per anni. Fin quando l'ha menato via i carabinieri. Fin quando l'ha menato via i carabinieri. Ma che protervia è questa qua? Consigliere rivolta. Ma la mattina si guarda allo specchio. E per quanto riguarda AFOL ha ragione. Io sono la prima a dire perché uno dei motivi fondamentali per cui sono uscita è proprio per questa banda che aveva preso anche quelle cose lì. Perché io le bande le vedo da tutte le parti. Non vedo solo dall'altra parte. Non ci vedo bene da lontano e male da vicino. Ci vedo bene anche da vicino purtroppo. E so chi fa danni più della grande. I NAFOL, BIC, Milano Metropoli. Una vergogna continua. Una vergogna continua. Non si preoccupa. Le vedo benissimo. Ciò non toglie che AFOL è chiaramente un carrozzone. Nord Milano, Milano, Milano Sud, Milano Brianza. Che non serve a nulla. Se non a mantenere un consenso elettorale, un gioco di potere. Chiaro che Nord Milano vi piace perché ci avete piazzato i vostri. E AFOL Milano adesso non vi piace perché non ci sono i vostri. Se domani doveste vincere le elezioni in provincia e piazzarvi i vostri, direste che va benissimo. Io sono stufa di queste partecipate. Sono stufa di queste mangiassolvi. Macchine mangiassolvi che non servono a niente. Che non servono a niente. Se non a mantenere personaggi che sarebbe meglio non mantenere. Questo me lo lasci lì. Grazie alla consigliera Landucci. Volevo avvisare che il pubblico non può esprimersi né applausi né... Quindi vi prego di stare in silenzio come siete stati fino adesso. Grazie. Si è prenotato il consigliere Tremolata. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Qualche considerazione breve circa la responsabilità che mi prenderò e ci prenderemo questa sera di votare, seppur a malincuore, come diceva il consigliere Rivolta precedentemente, questa delibera. non votiamo una sanatoria, non votiamo un'accettazione di 85.000 euro a fronte di mettere una pietra sopra su delle cose illegali, non facciamo finta che tutto sia andato bene, che tutto vada bene, non siamo nemmeno qui a giudicare il PI che nasce addirittura due consigliature fa, quindi non siamo qui a decidere se l'edilizia pubblica decisa in quella sede fosse corretta oppure no, se il progetto sia un mostro oppure no, se il PGT addirittura che è stato citato, che in realtà non era quello vigente di adesso, ma quello vigente allora fosse corretto o meno nelle sue previsioni, quindi se andasse fatta più o meno edilizia pubblica, più o meno giardini, eccetera, eccetera. Non siamo qui a giudicare se sia meglio costruire piuttosto che riqualificare, facciamo solo notare che il trasferimento di volumetrie nella mente probabilmente di chi l'aveva pensato era proprio questo, un riqualificare alcune parti di città, trasferendo, demolendo e trasferendo le volumetrie in altre parti della città dove andare a fare qualcosa di più bello, di più utile o comunque valutazioni che vengono fatte volta per volta all'interno di un programma di intervento integrato, quindi quando si farà certe affermazioni magari bisogna fare un po' più di attenzione. Non siamo qui a sancire una transazione pilota per la quale poi faccia giurisprudenza, in senso che dopo tutto il resto è già deciso, perché abbiamo già deciso questa sera quale sarà la linea da seguire. Non siamo nemmeno qui a certificare, come diceva il consigliere Lamiranda, ma solamente a prendere atto. Infatti vi volevo ricordare che la delibera cita che noi deliberiamo di prendere atto che non vi sono ragioni di interesse pubblico nell'annullamento d'ufficio del permesso a costruire. Questa è la delibera di stasera. Quindi entriamo nel merito di questa responsabilità. Non capisco il motivo per il quale chi sta da questa parte si deve assumere la responsabilità di votare a favore e chi siede dall'altra parte non si assume la responsabilità di votare contro. Io penso che sia una responsabilità in ogni caso. Cioè la responsabilità che pesa sulle nostre spalle, che pure a mano in cuore voteremo questa sera a favore, dovrebbe essere apparimenti pesare sulle spalle di chi voterà contro. Nel senso che chi vota contro ritiene che invece ci sia un interesse pubblico. Quindi non è che l'avvocatura dello Stato viene qua al nostro posto e decide. Si fanno delle considerazioni, alcuni sono a favore, alcuni contro, di una delibera. Allora, in questo senso la responsabilità di chi voterà contro, perché questa sera non votiamo contro il mostro, contro il PRG del 1900, contro il PI di due legislature fa, contro la transazione, contro la sanatoria. Questa sera chi vota contro sostiene che ci sia un interesse pubblico. Da quella parte non ho sentito nessuno dire quale sia questo interesse pubblico che voi ritenete esserci. E invece dovreste spiegare alle 40 famiglie che hanno acquistato, penso, mi risulta più o meno che siano questi gli appartamenti, hanno acquistato un appartamento nel mostro che loro nel mostro non ci possono andare, perché siccome c'è un interesse pubblico, lì mi spiace ma devono aspettare qualche anno. Questo, ma infatti glielo spiegherete voi, perché voi sostenete che ci sia un interesse pubblico. E quindi non è che chi vota contro poi a posteriori ha sempre ragione, quindi nel merito si discute chi ha favore e chi è contro, ma non è che si torna indietro nel passato, chi aveva votato contro allora, allora sicuramente ha ragione. No, si fanno degli errori, si fanno delle cose giuste. Ok? Certamente. Però, mi spiace, ma probabilmente lei, consigliera Landucci, si è sbagliata a parlare. Lei ha detto testualmente che il Consiglio di allora obbediva a una banda di delinquenti. Probabilmente ha sbagliato a parlare, quindi avrà modo di rettificare questa sua affermazione, perché se abbiamo sbagliato da questa parte, personalmente l'ho fatto in perfetta buona fede. E anche perché lei, un'altra cosa molto grave che ha detto, che voi avreste denunciato... Consigliere Tremolati, si rivolga al Consiglio, non alla consigliera Landucci. Lei faccia l'intervento al Consiglio. Va bene. Allora, caro Consiglio, la consigliera Landucci ha detto a voi che lei e loro avrebbero denunciato che questa banda di ladroni operava e che quindi noi eravamo al loro servizio. In realtà questo non corrisponde al vero. Fu presentata una lettera anonima. Io questa sera apprendo che quella lettera anonima fu scritta da voi. Se voi l'aveste firmata, io l'avrei presa in considerazione. Per quanto mi riguarda, quella lettera anonima finì nel cestino appena mi arrivò. Quindi forse ci sono degli equivoci che lei magari avrà modo di chiarire successivamente, perché mi sembrano delle affermazioni parecchio gravi rispetto a cose che esulano questa delibera. Dopodiché, a testimonianza del fatto che noi comunque viviamo come ferita aperta a questo procedimento, abbiamo presentato un ordine del giorno nel quale abbiamo mandato l'aggiunta e poi lo discuteremo più avanti per andare avanti in tutte le perplessità che sono state espresse anche da voi giustamente su tutto il resto del procedimento, dell'iter di procedura che ha avuto dei problemi di illegalità. Grazie al consigliere Trevola. Ha chiesto la parola al consigliere Pavani, a facoltà. Grazie, Presidente. Buonasera. La discussione di questa sera, sicuramente animata, sicuramente con molti spunti, proprio anche per valutare un po' quale può essere il bene per la città, ci sono certamente delle cose che non mi tornano. La delibera dovrebbe valutare se c'è un interesse pubblico a ritirare il permesso a costruire. Quello che mi sorprende, invece, facendo un attimino i calcoli, è che sembra quasi che ci sia un disinteresse pubblico a quantificare correttamente questo che, comunque, mi sembra che tutti concordiamo, possa essere definito un abuso. E mi spiego meglio, più o meno con dei conti della serva. 230 metri quadri, anche se a quanto pare qualcuno dice che sono di più, quantificati in, al massimo, 85 mila euro, diciamo, di conguro, chiamiamolo risarcimento. Allora, qualcuno mi deve spiegare come mai, in una situazione di questo genere, dove probabilmente l'amministrazione avrebbe bendonde per chiedere un maggior esproprio di denaro dal privato, cioè, chiaramente, quantificare molto di più di 85 mila euro a bene della collettività, a vantaggio della collettività, rispetto ad altre situazioni in cui un immobile faticente, che era adibito ad interesse pubblico e aveva una metratura di 57 metri quadri, è stato messo all'asta a un valore di base d'asta di 177 mila euro. Tant'è che in vent'anni le aste sono andate tutte deserte. Grazie. Grazie al consigliere Pavan. Si è prenotata la consigliera Titta Ferran. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei fare una piccola premessa. Innanzitutto diamo atto all'assessore Marini, che nella commissione speciale sul cosiddetto sistema Sesto, istituita per far luce sulle pratiche edilizio oggetto di contestazione da parte del periodo della procura, ha fatto una presentazione imparziale sul progetto edilizio in questione, facendone la cronistoria e ricostruendo le procedure adottate e le delibere avvenute. La ricostruzione dei fatti e delle delibere è stata esposta con una presentazione in PowerPoint, che ha permesso di comprendere ciò che è avvenuto. Non è una cosa da poco. Se pensiamo all'ultima esposizione dei fatti avvenuta in Consiglio Comunale dal liquidatore del Consorzio Trasporti Pubblici, dottor Vergallo, che si è presentato senza relazione scritta e senza il corredo di documenti necessari a supporto di quanto stava esponendo. Questo mi premeva dirlo. Comunque, entrando nel merito, l'assessore Marini ha evidenziato una serie di atti amministrativi di dubbia legittimità, non conformi alle normative regionali. In particolare è emerso che la mancanza di procedure per cui non era possibile sapere chi doveva istruire le pratiche valutarie e valutarle e la mancanza di un responsabile unico di procedimento, figura prevista sin dal 1990 dalla legge 241 nell'articolo 4, ha causato una parcellizzazione procedurale e una discrezionalità nella fase istruttoria della pratica edilizia che davvero lascia perplessi. I documenti che non sono reperibili, anche stasera ne è emerso uno che non era, a quanto pare, agli atti o a conoscenza. Documenti che non sono reperibili a causa della mancanza di protocollazioni di tutti gli atti testuali e grafici. Il calcolo delle volumetrie, che in questo progetto sono state determinate in modo difforme al piano urbanistico, la mancanza di controlli e verifiche sia nell'istruttoria dei certificati che sulle attività nei cantieri. Tutto ciò ha generato una situazione di incongruità e inadeguatezza alle norme vigenti. Dunque, i vizi procedurali avrebbero potuto rendere annullabile d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, ma doveva essere fatto a suo tempo. Il provvedimento in oggetto risale all'8 giugno 2009 e i permessi a costruire invariante a quello originario non hanno fatto altro che confermare l'azione amministrativa. Inoltre, c'è da considerare la posizione dei soggetti privati, le famose 40 famiglie, che hanno acquistato confidando sulla legittimità degli atti. Dunque, il periodo trascorso, i provvedimenti confermativi di altri atti dell'amministrazione comunale e la salvaguardia dei soggetti privati non possono fondare azioni di annullamento solo per mero ripristino della legalità, purtroppo. Ora, per procedere all'annullamento del permesso di costruzione, come da parere dell'Avvocato Sabbioni, occorre che sussistano le ragioni di interesse pubblico. Le perplessità sugli atti compiuti dell'amministrazione nel progetto di riconversione dell'area ex Carmine, finito nell'inchiesta dei PM di Monza, sono tante e complesse. C'è voluta oltre un'ora per ripercorrere in commissione le tappe di una vicenda iniziata nel 2007, con progetto che prevedeva 2.656 metri quadrati di SLP, superficie lorda di pavimento, diventati di variante invariante oltre 4.500. In discussione ora il permesso di costruire, rilasciato a gennaio del 2009 alla ditta Trelisan, tre i rilievi principali. Il mancato conteggio nelle SLP del piano terra, possibile solo in caso di porticato, la chiusura delle logge, considerate impropriamente serre bioclimatiche, il recupero del sottotetto della villa ex Carmine, metri quadrati 400, non previsti nel piano. Evidenziamo il primo trasferimento di superficie, quella dei 900 metri quadrati di SLP, che riguardavano volumi del cinema in Viale Marelli, via Buozzi. Valore ipotizzabile almeno 2.700.000 euro. Per trasferimento dei volumi in altra area, l'articolo 33 delle norme tecniche di attuazione prevede la demolizione effettiva dell'edificio, che purtroppo non è ancora avvenuta. Cosa ha deciso l'amministrazione per questa superficie, per cui ha comunque rilasciato il permesso a costruire in altra area? Per quanto riguarda i 400 quadrati di recupero del sottotetto, anche qui un valore ipotizzabile almeno di 1.200.000 euro, la controparte ditta Trevisan ha proposto per chiudere il procedimento opere a favore della collettività fino a 85.000 euro per l'arredo stradale in via Picardi. Qual è il criterio di calcolo di questo importo? Inoltre, sanare la posizione con 85.000 euro per una pratica che vale diversi milioni di euro crea un pericolosissimo precedente che non si può né sottacere né giustificare ai cittadini. Infine, la Giunta ha dato mandato agli uffici di chiudere il procedimento. Questa delibera, a nostro avviso, non doveva essere portata in Consiglio Comunale, poiché scarica la responsabilità di queste decisioni che sono prettamente di competenza della Giunta e su consiglieri che non possono avvallare e condividere una così fatta situazione. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Si è chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, ho preso molti appunti di questa serata che per me è un grosso show, quindi un grosso show politico questo. E bisogna dare delle belle risposte alla cittadinanza, visto che comunque sono state dette tante cose, gli appartamenti sono stati venduti. Va bene. In Commissione è stato detto che tutto ciò che è stato fatto è stato fatto ma in modo diverso se bisogna capire anche questa tipologia di affermazione. Stasera è stato detto dell'assenza dei requisiti tecnici da parte dei consiglieri. È stato detto che manca una relazione dei tre avvocati del Comune. È stato detto che serve un'avvocatura di Stato per sapere la valenza dell'interesse pubblico o meno. non si capisce se si può demolire o se non si può demolire, quantificare il risarcimento e capire da chi. È stato detto in aggiunta che ci sono voluti due mesi per analizzare i costi di questa vicenda. È stato detto che i sottotetti sono illegittimi e bisogna capire come monetizzarli. È stato definito un pasticcio. Il cinema pollo non è stato demolito ma è stato recuperato nella vicenda. Non è stata fatta un'analisi sugli standard. Bisogna capire ancora come monetizzare la differenza delle parti che non vi è traccia. È stato detto che i soggetti che hanno confezionato l'intervento sono indagati. È stato detto che il soggetto attuatore era cosciente delle irregolarità. è stato detto anche che chi è preposto al controllo sbaglia. C'è stata una certificazione di un assessore che non c'era con dei documenti con date differenti. Sono state dette tante cose. Io volevo dire quelli che sono i miei dubbi in linea di massima. Secondo me non stiamo votando l'utilità pubblica a demolire. Stiamo votando la chiusura di una pratica dove secondo me c'è l'impressione che questa ditta tra Evisan se la cava con molto poco. 87 mila euro circa. Poi bisogna capire come mai c'è una convenzione non stipulata di demolizione o acquisizione di 900 metri quadri del cinema a pollo che risulta difficilmente demolibile. E bisogna anche capire come mai c'è il comune che spenda ancora soldi in cause con i proprietari di questo cinema. Quindi tanti dubbi. Soprattutto la questione dei condoni. Io ho un grosso dubbio. Nel senso che il recupero dei sottotetti di una palazzina che va demolita ma allora questi 402 metri quadri sono abusivi o meno? E soprattutto se sono considerati attendibili ma quando sono stati presentati questi dati dal costruttore primo o dopo il PIE approvato e questo è il mio grosso dubbio. Io dico che secondo me questa delibera ha portato molta confusione e mi mettono nei panni anche del pubblico dei cittadini o chi ci sta seguendo a casa che secondo me molto poco si è capito. La conclusione più giusta di questa vicenda secondo me è che i 230 metri quadri in più questa volta debbano essere dati a chi ne ha veramente bisogno. Quindi secondo me la conclusione degna di questa storia con tutto questo buio deve essere questa. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Lasciamo aperte ancora gli interventi. Allora, ha chiesto la parola la consigliera Pietra Sì, grazie molto velocemente in questa serata come diceva il collega Cremonesi di show. Io non so se quello che è stato detto questa sera se è del tutto vero per esempio le affermazioni della consigliera Landucci sicuramente non è vero quanto ha detto su di me in quel mio intervento io ho detto c'è la registrazione che si può andare a vedere che nonostante ci fosse la minaccia di finire sotto la Corte dei Conti io mi pigliavo la responsabilità di votare a favore che è molto diverso dal dire non me ne frega niente della Corte dei Conti eccetera. Dopodiché, signor Presidente io pensavo di votare questa sera questa delibera nella situazione attuale in cui si è di cui la maggioranza di noi non è responsabile e invece mi trovo in una situazione di enorme confusione e credo questo anche per il pubblico più o meno plaudente comunque di confusione per cui sembra che andiamo a votare quella cosa la schifosissima che è successa che mi ha fatto stare male quando l'ho scoperta come cittadina di Sesto e mi fa arrabbiana ancora oggi perché comunque siamo tutti qua in questa condizione a dover fare dei conti con un'esigenza della città di Sesto determinata da procedure di un certo tipo e di procedure di malaffare quindi nessuno le approva ed è molto fastidioso. Non mi piace essere buttata quel voi che si usa come se tutti noi ci fossimo allora siamo della stessa banda eccetera lo rifiuto personalmente non è che perché io sto di qua e sono nuova però sono nel calderone di ciò che è stato e invece chi è di là è santificato anche se è nuovo credo che tutti siamo qua a cercare di dare qualcosa per la nostra città e meritiamo credo tutti quanti il rispetto. Io ho cercato di capire bene lo sanno insieme a tutti noi abbiamo voluto capire bene questa situazione cercare di studiarla e mi sembra abbastanza chiara sul fatto che dobbiamo decidere se c'è un interesse pubblico o no io posso fidarmi di ciò che mi viene detto dall'avvocato e dagli uffici e dal mio assessore rivalutato grazie all'intervento della consigliera Titta Ferrante su ciò che ha detto su questa vicenda che non era solo cos'è che usavano il termine si accusava che no quella è la sua parola ecco bizzarro non ha detto assolutamente solo questo in tutte le occasioni eccetera ecco non è solo bizzarro scusate ma sarà una fase di brumer della mia età e quindi ci sono queste famiglie comunque ci sono che stanno pagando un canone e che stanno pagando l'affitto 40 famiglie in queste condizioni c'è questa esigenza che non vuol dire buttare un dare un colpo di spugna a una vicenda di cui io voglio sapere invece fino in fondo c'è l'esigenza come consiglieri di decidere una cosa per il bene della città c'è chi ha delle posizioni c'è chi ne ha delle altre credo che però ci voglia un po' più di rispetto un po' più anche di conoscenza della storia personale io sono talmente per la cementificazione che sono tra quelle persone che si sono incatenate laddove oggi sorge il pallassesto perché non volevo esatto tanti anni fa ero molto più giovane perché non volevo assolutamente che levassero neanche un albero per cui ho fatto tutte le battaglie per l'acqua eccetera e sono un po' stufa di essere presa così e messa incasellata in uno stereotipo di pura fantasia di qualcuno chiedo rispetto e conoscenza per ciò che si è la cosa che mi piace non so se è fattibile però i due consigli che dava le due proposte del consigliere Nossa sul fatto che quello spazio che credo sia indistruttibile se no viene giù tutto il palazzo se ho ben presente dove è il cinema pollo e gli appartamenti le metrature degli appartamenti che risultano in più provare a capire se è vero se possiamo darle davvero a chi in questo momento ha bisogno di casa e l'altro spazio sicuramente è uno spazio favoloso che potrebbe essere utilizzato per cose stupende di utilità pubblica grazie grazie alla consigliera Pietro ha chiesto la parola il consigliere De Noe è a facoltà grazie presidente beh io quando quando mi sono trovato sia in commissione e qui a discutere di questa delibera il primo pensiero sicuramente mi è andato a queste famiglie cioè quelle persone che effettivamente hanno acquistato casa hanno speso dei soldi prima si parlava di un momento di crisi sì effettivamente è un momento di crisi chi fa un investimento del genere cioè chi ci mette dei soldi le giovani coppie ma chiunque acquista una casa fa un investimento di questo tipo in questo momento effettivamente se io dovessi pensare di mettermi nei loro panni che a un certo punto come si è detto prendiamo e buttiamo giù tutto gli si ridanno i soldi e finisce tutto qui perché quei palazzi sono brutti sì è vero sono state costruite delle cose brutte a Sesto San Giovanni è vero che chi sbaglia deve pagare sicuramente però io veramente faccio parte di questa amministrazione faccio parte della maggioranza e dico a tutti quelli che pensano come ho visto da alcuni interventi che ci sia semplicemente una continuità cioè banda di delinquenti prima banda di delinquenti adesso banda di delinquenti vent'anni fa chi pensa che questa amministrazione sia questo beh può pensare tranquillamente ma saremmo noi a fargli cambiare idea col passare del tempo saremmo noi tranquillamente a fargli cambiare idea è brutto utilizzare questi termini se qualcuno pensa di doversi esprimere in questa maniera lo faccia pure però io credo che questa sera noi stiamo discutendo semplicemente e stiamo discutendo adesso è inutile che continuiamo a discutere nel passato diventiamo tutti urbanisti fanno tutti i calcoli sono diventati tutti i professori dell'università fanno tutti i calcoli e se li rifanno io capisco chi ha vissuto quel momento chi in quel momento ha denunciato capisco che magari dalla sua esperienza personale può dare anche beneficio alla discussione come è successo in commissione come avviene nella commissione speciale ma noi stasera stiamo discutendo effettivamente stiamo discutendo di fatti che riguardano le persone saranno brutti a parte che il giardinetto l'ho visto io ci sono andato proprio ieri perché abitavo tra l'altro in via Picardi e sinceramente che la via Picardi faccia schifo questo è un giudizio personale io sinceramente sono di parere contrario che ci siano degli interventi da fare in città sicuramente perché una città può sempre essere migliorata ma in qualsiasi città e facciamo in Sasson Giovanni come in qualsiasi altra città ora quello che volevo dire è che noi stiamo ragionando di persone di persone che hanno fatto un passo importante voi pensate provate a pensare a una giovane coppia che effettivamente ha acquistato un appartamento in quello stabile e che a un certo punto prende e deve piantare tutto ricominciare da capo in un momento come questo e diciamo siamo pieni di appartamenti sì siamo pieni di appartamenti probabilmente qualcuno non si ricorda quando ha cominciato come ha cominciato io sì perché sono sposato appena da cinque anni e mi ricordo e ho cambiato casa in questi anni e so cosa vuol dire so cosa vuol dire quando si comincia e so cosa vorrebbe dire nel momento in cui si dovesse decidere di prendere e abbattere gli edifici so cosa vorrebbe dire come mi sentirei io questa sera non mi sento di dire a queste persone di fare questa cosa quindi l'unica l'ultima cosa che volevo dire era questa chi pensa effettivamente di far credere alle persone che noi continuiamo che l'amministrazione è sempre quella che la giunta è sempre quella che da questa parte ci sono i delinquenti e da là ci sono i santi ecco siete liberi di pensarlo però noi sicuramente ribadiremo continuamente e possiamo portarvi tranquillamente a cambiare idea perché in questi cinque anni vedrete cosa saremo in grado di fare grazie grazie al consigliere De Noia ha chiesto la parola il consigliere Caponi ne ha facoltà grazie presidente io intervengo sulla base della dichiarazione del consigliere De Noia perché tra tutte le giustificazioni politiche dotate dalla maggioranza credo che quella di scaricare la responsabilità di un voto contrario dicendo che dobbiamo tutelare delle persone che hanno fissato la casa sia la meno fondata mi scusi ma non cerchiamo di cioè non gettiamo colpe o comunque non strumentalizziamo sulla pelle di cittadini se una parte politica deve avallare o meno una scelta politica che io sto rispondendo guarda io non volevo neanche ho fatto parlare i miei colleghi di lista perché di solito faccio un intervento io mi sembrava giusto lasciare spazio a tutti però oggettivamente preferisco molto di più la presa di posizione della collega Pietra che pur con risentimento giustifica una propria una propria una propria posizione a favore la realtà e non a caso ho inteso intervenire per ultimo già dall'apertura della relazione di maggioranza si è intravisto di come si voleva far andare questo dibattito in realtà un dibattito pilotato perché si è cercato subito di giustificare e di portare l'attenzione su questo benedetto interesse pubblico che nessuno nega però non è giusto utilizzare questi questi concetti questi valori per mettere il baglio delle responsabilità perché non si fa assolutamente né un bene per la città ma soprattutto non si fa esercitare la democrazia a tutte le forze politiche presenti in quest'aula perché nessuno di noi ha strumentalizzato quello che è successo stasera non me ne voglia nessuno anch'io riconosco l'assessore Marini una grande imparzialità dirò di più ha usato termini come bizzarro anomalo illegittimo illecito e tirato per i capelli però con la schiena dritta è venuto pur riconoscendo l'errore della precedente amministrazione a giustificare l'operato delle precedenti scelte politiche avremmo potuto chiedere dimissioni sarebbe stata la strumentalizzazione politica più classica come si fa a giustificare un'opera illegittima come si fa a parlare di amministrazione corretta quando si va a sanare un comportamento illecito non nascondiamoci la realtà è ben diversa è in gioco una scelta politica che la maggioranza ha adottato in sede di giunta questa scelta è stata liberamente presa da una maggioranza politica non scaricata sui banchi dell'opposizione soprattutto non fateci passare per coloro che vogliono portare via la casa ai cittadini ma noi cerchiamo soltanto di far emergere una non solo una verità ma anche una giustizia perché non è possibile andare a sanare il passato con una manciata di quattrini 85 mila euro e non concordare neanche la destinazione di quelli 85 mila euro la provocazione del consigliere nostra ci vede assolutamente allineati perché noi ci stiamo battendo da tempo affinché a sesto il sindaco nel corrente venga creata la casa del volontariato questi soldi che sono della comunità senza togliere nulla a quartiere Picardi potevano benissimo essere spesi per l'intera comunità perché non ha senso far ricadere singolarmente questi soldi che sono veramente pochi rispetto alla quantificazione delle somme messe in un gioco su una piccola area della città che pur merita attenzione come quella di via Picardi ma ce ne sono tante altre c'è anche a Piazzatento Trieste che è dimenticata ci sono i quartieri periferici che sono degradati all'inverosimile basta pensare a quel quartiere Peruca altri quartieri che necessitano di altrettanti stanziamenti giustamente come ha fatto notare il consigliere Nossa se quella riqualificazione era già in animo della giunta dell'amministrazione presumo che sapesse già dove attingere quei fondi quindi magari possiamo anche decidere di destinare quegli importi senza togliere la riqualificazione via Picardi ma un interesse di carattere più generale quello che è emerso stasera senza fare nessuna polemica è la continuazione di una pagina buia della nostra città perché è un tentativo di giustificare qualcosa che è di fatto insanabile cioè noi non riusciremo a togliere questa piaga comunque questa brutta situazione che ha infamato in Italia la città di Sesto perché ovunque ognuno di noi si presenta come cittadino di Sesto a me non è capitato viene subito ricordato come quello del sistema Sesto non abbiamo speculato questa sera come minoranza assolutamente abbiamo portato delle proposte e dei ragionamenti di carattere politico la proposta di destinare questi superfici per il bene della città ci vede assolutamente concordi ma credo che la responsabilità definitiva di un voto favorevole non possa essere chiesta per avallare una scelta di carattere politico ai banchi della minoranza grazie consigliere Caponi chiesto la parola il consigliere Foggetta ne ha facoltà grazie sarò molto veloce in questa serata di raddoppi dei tempi e di gente che si dilunga niente sono andato un po' a spulciare negli ultimi giorni per capire un po' di più la questione le memorie storiche a cui posso fare riferimento quindi oltre ai verbali anche i pareri delle persone che erano qui prima di me faccio i nomi dei vecchi la corte e scacchi o Demetrio Morabito niente quello che mi è parso di capire è che si stia facendo un grosso un grosso questo è il mio parere poi ritenetelo legittimo quanto volete un grosso polverone si stia tirando su un grosso polverone per una cosa che ricordiamolo sono 230 metri quadri ed è una cosa relativamente piccola non stiamo parlando di 4.000 metri quadri stasera ma dei 230 dopodiché unendo i vari i vari punti delle della raccolta dati che ho fatto negli ultimi giorni mi è perso di capire che col cambio di gestione del dell'edilizia pubblica dopo post terremoto 2010 ci sia stato una sorta di modus operandi per cui legittimamente si andava a mettere in autotutela tutte quelle pratiche per cui c'erano cose che non tornavano un po' come questa qui questa sera siamo qui a decidere se questa autotela questo blocco dei lavori sia da mantenere o da togliere e la discriminante di questa decisione è l'interesse pubblico come è già stato detto sinceramente alla luce di quanto detto dall'assessore dall'ingegnere durante le commissioni che mi pare di sentire anche dalla minoranza sono state più che partecipate e più che trasparenti io credo che in questo momento credo di poter dire che l'interesse pubblico a mantenere questo blocco dei lavori non ci sia per questo io noi voteremo favorevolmente a questa delibera dopodiché sinceramente mi lancio una piccola provocazione anch'io quella del il parere dell'ufficio legale sarebbe stata una cosa che mi sarebbe piaciuto avere questa sera ma l'avrei visto come un un tassello aggiuntivo a un puzzle già già finito semplicemente volevo una cosa di questo tipo il puzzle già finito io lo vedo già finito perché appunto come dicevo prima queste commissioni sono state più che limpide e hanno fatto capire anche a un profano come me di che cosa si stava su che cosa si stava lavorando e di che cosa stavamo parlando quella la polemica di questa sera per cui questa cosa si stia discutendo in consiglio comunale e non in giunta io sinceramente la trovo tanto per parafrasare qualcuno la trovo abbastanza bizzarra nel senso che a parte una motivazione su questa cosa io la vedo là sopra mi sembra giusto mi sembra che questo sia stato il e tra l'altro la vedo là sopra dove immagino tre quarti della gente non sia qui per noi non sia qui favorevolmente alla delibera è gente che sta di là quindi io penso che per questa ragione anche per questa ragione l'idea di aver scelto la scelta di venire qui e di discuterne in consiglio comunale sia quella che porta la maggiore sia la maggiore trasparenza la maggiore rendere il tutto quanto più limpido possibile io quindi questa polemica la trovo davvero sterile sinceramente dopodiché niente appunto per quello che ho già detto e per come sono andate i lavori nelle due commissioni e fino ad oggi anche con la mail di risposta alle varie insicurezze che è arrivata in questi giorni dall'ingegnere io la trovo trovo davvero molto trasparenza e sono per votare favorevoli noi della federazione della sinistra voteremo favorevolmente grazie consigliere Foggetta chiesto la parola il consigliere Romaniero non è a facoltà grazie presidente non mi dilungo però voglio fare alcune puntualizzazioni su quello che è anche stato detto in precedenza c'è uno slogan che viaggia in questo periodo su una trasmissione radiofonica di un programma radiofonico recita così l'ignoranza fa più male della cattiveria ed è vero a me non piace rimanere ignorante su certe questioni il fatto che abbiamo portato questo argomento qui in consiglio comunale è stato importante è stato importante per quelli come me che si sono affacciati a questa nuova esperienza mi ha permesso appunto di sviscerare in maniera molto dettagliata quello che è successo in questi anni questo grazie e anche voglio ringraziare personalmente al lavoro dell'assessore Marini ci sono state due commissioni la speciale e l'urbanistica che hanno trattato di questi argomenti e se dopo due commissioni si arriva qui con dei dubbi significa che forse qualcuno nelle commissioni non è stato attento e non ha fatto le domande giuste se poi per favore fate per favore se poi se poi alle due commissioni ci sono stati delle mail di chiarimenti sollevati in quell'occasione quindi questo vuol dire che io continuo a ribadire che dobbiamo essere capaci di sfruttare al meglio i momenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione questo deve essere chiaro nelle commissioni non si viene a perdere tempo si viene a capire ma mi lasci parlare per favore consigliere Tintaferrani non sto parlando del suo caso tra l'altro tra l'altro tra il suo interno quello che mi è piaciuto di più stasera ma guardi me non guarda la consigliere mi guardi guardi me prego no ma non è questione di essere cattivi o bravi voglio dire io lo ribadisco sempre ci sono le commissioni lavoriamo bene nelle commissioni soprattutto quando ci troviamo di fronte a persone di grande professionalità che mettono a disposizione il loro tempo per rispondere a tutte le cose che solleviamo questo è importante per tutti voglio dire ma vi rendete conto lo sforzo che è stato fatto per ricostruire la cronistoria minuto per minuto dall'assessore Marini eh ok lo dico anch'io vado avanti poi riprendo alcune alcune mi riallaccio all'intervento di la Miranda quello iniziale che parte sempre con un grande terrorismo a me mi mette sempre un'ansia e poi vado a verificare e in tutte le cose che dice c'è sempre quella cosa che dice che non è perfettamente giusta spero no vabbè ma io io non è che lo dico perché mi piace dirlo no no però voglio dire voglio dire voglio dire spero che allora per favore quando dice che il consiglio comunale guardo lei quando dice che il consiglio comunale non è competente a trattare questa materia ma io ho visto il regolamento mi sono confrontato col segretario e non mi pare che ci sia nessuna norma che vieti di entrare nella competenza di questo argomento poi se c'è quando facciamo dichiarazioni di questo genere siamo puntuali diciamo qual è la norma ad esempio come ad esempio una volta mi ricordo che disse che c'era qualche comune che aveva dato la deroga per le forze dell'ordine sul limu ma sono andato su internet non l'ho mai trovato stiamo sull'argomento quindi quando facciamo delle affermazioni facciamole in maniera puntuale e precisa che è importante poi la proprietà transitiva non è che quello che decidiamo qui stasera vale per le prossime cose ogni pratica ha una sua storia ha una sua no è no è no ha una sua storia un suo percorso e un suo iter decisionale quindi quello che decidiamo qui stasera non diventa giurisprudenza assolutamente almeno per quello che mi riguarda grazie governare è anche responsabilità se io ho scelto di venire qua perché mi voglio prendere le mie responsabilità nel bene e nel male se no stavo a casa e se vengo qua non vengo per schiacciare un bottone vengo per prendere coscienza di quello che c'è e di valutare con la mia testa qui insieme a me c'è tutta gente che pensa con la propria testa e non c'è qualcuno che dice di votare sì o no a seconda delle condizioni per favore per favore non lo so consigliere siamo tutti uguali cosa vuole che le dica siamo tutti uguali non lo so io penso di no che ci siano delle differenze grazie adesso ho perso il filo allora no vabbè noi possiamo anche ridere possiamo anche ridere no però voglio dire ma allora cremonesi cremonesi stiamo avanti cremonesi da te questo tipo di interventi non me lo aspetto però eh non me lo aspetto assolutamente poi dopo se vogliamo usciamo di qua ridiamo e scherziamo ma questi interventi no no cremonesi mi raccomando abbi rispetto del ruolo che ricopri vada avanti consigliere romania ora io questa sera arrivo a formulare un giudizio non in base a diciamo così a degli ordini precisi ma in base a quello che mi ha spiegato l'assessore Marini e se arrivo a dire che sono favorevole o contrario lo faccio con conizioni di causa ma questo deve essere il lavoro che dobbiamo fare tutti maggioranza e opposizione perché il sistema vince se c'è una maggioranza forte è un'opposizione forte se no il sistema perde e quindi questo che mi prevedere non arriviamo nei consigli comunali portandoci dietro sempre il revival di quello che è stato affrontiamo i problemi per quello che sono le motivazioni per quelle che sono sono motivazioni quelle che Marini presenta che vi convincono sì sono motivazioni che non vi convincono no questo deve essere chiaro e comunque assumiamoci tutti la responsabilità di decidere nel bene e nel male grazie consigliere Romaniello se non ci sono più interventi darei la parola all'assessore Marini grazie presidente il dibattito ha toccato molti punti tantissimi non mi chiedete di rispondere a tutti però su alcuni forse vale la pena dare delle precisazioni cinematografica estense si tratta di un procedimento con una sua autonomia rispetto a Trevisan sebbene connesso il comune gli uffici hanno fatto un provvedimento hanno ordinato hanno chiesto la demolizione contro a questa ordinanza la cinematografica estense è ricorsa al TAR ha prima chiesto la sospensiva che è stata a questo punto negata il giudizio di merito è ancora pendente si ricorre al TAR quando si è di un'idea contraria ed è il TAR che a questo punto il giudice che decide che cosa sentite le parti che cosa è possibile e corretto fare noi siamo convinti della necessità di demolire sarà il TAR che deciderà se questo è vero e i provvedimenti gli eventuali provvedimenti sostitutivi compreso possibili effetti sulla pratica connessa che è treviso e questa è la prima precisazione tutto sta a questo punto alla giustizia amministrativa il secondo punto ma all'inizio della serata i primi interventi hanno evitato di cadere in una sorta di equiproquo che invece sono caduti a mio giudizio gli ultimi ed è la questione del ristoro se voi andate a leggere e a guardare i due articoli della legge 241 il 21 octis e il 21 nonis scusate i termini sono un po' ridicoli ma che disciplinano l'annullabilità dei provvedimenti non c'è scritto da nessuna parte il problema del ristoro del risarcimento ristoro e quant'altro anzi per certi versi ma il segretario mi correggerà l'idea di poter comprare l'interesse pubblico francamente mi come dire mi mi fa venire un po' la pelle d'oca scusi consigliere Pavano uso lei ma forse abusando di quello che che lei voleva dire ma mi permetta per fare un esempio lei ha parlato di abuso edilizio di abuso a un certo punto io ho colto proprio questa parola qua non è un problema dell'operatore che ha fatto un abuso qua il problema è che l'amministrazione di Sesto San Giovanni ha rilasciato degli atti illegittimi l'abuso edilizio si sana attraverso il condono il condono speriamo che non venga mai fatto mai più fatto in Italia è una potestà statale neanche delle regioni lo può fare solo lo Stato noi non non stiamo parlando di abuso edilizio e non stiamo parlando di ristoro o di risarcimento questo sia chiarissimo da questo punto di vista prendere gli 85.000 euro come un ristoro o il pagamento di un abuso edilizio non sta scritto da nessuna parte e non non dobbiamo pensarlo in questa maniera anche perché a questo punto si sarebbe una scusate un atto illegittimo perché noi non possiamo fare condoni ok da questo punto di vista altre questioni edilizia sociale sì certo c'è una carenza molto forte c'è peraltro un buco temporale nella programmazione anche se su che cos'è l'edilizia convenzionata piuttosto che il canone moderato e il canone sociale forse quando ci sarà occasione bisognerà un po' ritornare a discutere non tutta l'edilizia sociale uguale forse ci sono necessità differenti sulle opere possibili beh questo è un po' l'operatore che ha chiesto di come dire ha vincolato un po' questo ristoro come lo chiamate voi però evidentemente c'è una come dire una possibilità fra l'altro ha chiesto che fosse in zona c'è un problema di immagine nell'operatore da questo punto di vista e quindi è in quel senso che si muove ho sentito parlare dei giardini piuttosto sì no ma questo evidentemente mi sembrano suggerimenti assolutamente accoglibili e da da verificare più attentamente no l'ultima questione beh io non posso e non voglio entrare non è qua la la serata in una discussione sulla bellezza di Sesto però sia Sesto come in tutte le città italiane certamente una maggiore attenzione alla qualità della città anche architettonica che non è facile definire mi sembra necessaria e doverosa la penultima questione io però su questo ci tengo molto noi abbiamo visto una delle 14 15 pratiche sì è vero come tutti come tutte le prime volte fa scuola questo e però questo far scuola ci dice che dovremmo vederle una per una e valutarla una per una l'unica generalizzazione che possiamo fare è sui criteri ma l'esito non mi sento di anticiparlo adesso anzi proprio contrario devono essere valutazioni puntuali caso per caso questo ci chiede peraltro la legge nel caso dell'annullabilità degli atti il fatto che come dicevamo all'inizio di questa serata quello che è stato fatto si poteva fare o non si poteva fare quello che è stato fatto è stato fatto a conseguenza di atti emessi da questa amministrazione piuttosto che nella forma dell'abuso edilizio l'impatto sul territorio e via di seguito gli aspetti territoriali urbanistici eccetera allora questi saranno i criteri che forse dovremo affinare e completare e magari penso nella commissione speciale anche la scaletta che ci dovremo dare che seguiremo allora in questo senso sì almeno inizialmente questa questa vicenda fa scuola ma l'esito poi andrà visto caso per caso su questo sarei molto preciso da questo punto di vista no mille altre no parere dell'avvocato sabbione l'avvocato sabbione mi scusi ma questo lo debbo più all'avvocato anzi il professor sabbione ci ha seguito molto attentamente quella battuta che facevo in commissione era solo rispetto a un refuso di uno zero in più che non c'entrava la verifica dell'agibilità se poi che è l'atto conclusivo se poi ci saranno delle distanze delle differenze fra fra il progetto e ciò che sarà realizzato su questo la legislazione tra l'altro è molto precisa quella edilizia si verificano la fine e via di seguito sulla questione delle modifiche planivolumetriche anche in commissione anche per quanto riguarda le responsabilità io ho usato scusate è stato detto mille volte questa serata mi pento ma ho usato il termine bizzarro non a caso quando ho usato il termine bizzarro quando magari formalmente c'è una come dire una pienezza dell'atto ma il senso e la sostanza almeno io personalmente faccio fatica a perderlo quando invece c'è manca un presupposto di formalità ho usato il termine illegale o sinomini niente ho concluso dando almeno alcune delle risposte poche rispetto al dibattito ho sollevato grazie grazie all'assessore Marini ha chiesto la parola il sindaco e a facoltà prego grazie presidente volevo riprendere alcuni passaggi di questo interessante per me e anche doloroso consiglio comunale la consigliera Iosa ha detto nel suo passaggio nel suo intervento che stasera si sta facendo finta di niente ve lo sono segnato stasera nessuno sta facendo finta di niente anzi ci siamo presi la responsabilità di fronte alla città pubblicamente di portare alla discussione pubblica una pagina dolorosa della nostra storia recente e non facciamo finta di niente anche perché la ricostruzione di questo passaggio quello che andremo a votare questa sera ha avuto tappe diverse è stato ricostruito in modo molto puntuale così come detto da tutti i consiglieri nel corso della commissione speciale ha avuto un passaggio molto approfondito durante la seconda commissione consigliare se i consiglieri avessero voluto ne avremmo fatto un altro non mi ricordo chi questa sera ha detto che noi dovremmo ritirarlo per approfondire ulteriormente l'avessero chiesto in commissione ci saremmo ritornati non facciamo finta di niente perché come ha detto il consigliere rivolta in questi primi dieci mesi di amministrazione comunale di cose ne abbiamo fatte anche parecchie certo che fa comodo non ricordarle lo ringrazio per averle ricordate non mi sottraggo però alla responsabilità politica del passato consigliere Lamiranda non è mio uso non l'ho fatto neanche in campagna elettorale anzi l'opposto e l'impegno di questa assunzione politica è l'impegno quotidiano del lavoro mio della giunta e degli uffici che ci stanno accanto e l'impegno e il modo in cui intendiamo affrontarlo fa parte anche di questo percorso di questa sera fa parte di come ci poniamo durante i momenti di ricostruzione dei casi in commissione speciale fa parte di come approfondiamo gli argomenti come è stato anche riconosciuto dai consiglieri comunali come li approfondiamo nei passaggi delle commissioni consigliari e quindi io voglio ringraziare anch'io l'assessore Marini per il tanto tempo che ha dedicato a questa pratica l'architetto Riganti e tutti i suoi uffici nulla è stato fatto in modo affrettato ve lo posso garantire molte sono state le discussioni e i confronti poi sono stata francamente molto colpita in modo negativo ovviamente da quello che ha detto il consigliere la Miranda che è in possesso di una lettera che gli ha inviato gli ha portato a mano non lo so comunque è in possesso di un atto scritto della ditta che lì sta lavorando lei è un pubblico ufficiale lei se sa delle cose le deve dire lei se sa delle cose le deve dire non può insinuare perché a noi più volte richiesto ai proprietari quelle cose non sono state dette né nulla ci è stato consegnato per iscritto dell'interesse pubblico si è detto l'interesse pubblico non è dato per sempre è la legge che lo dice di volta in volta bisogna vedere qual è il segretario diceva che la giurisprudenza dice che deve essere concreto e attuale quindi questa di questa sera non crea una precedenza o meglio sì come ha detto l'assessore Marini lo crea nel metodo e questo lo rivendichiamo nessuno vuole sanare niente e l'ha spiegato molto bene l'assessore prima per i motivi che ha detto lui ci sono quelli tecnici e quelli come dire fondanti della discussione ma poi anche perché nulla è sanabile questo argomento e questa parte di storia noi ce la porteremo dietro e quindi quello che viene proposto dalla proprietà come concorrenza forse anche sì per una questione di immagine non è un ristoro non è un risarcimento noi potevamo rifiutarlo il consiglio comunale di questa sera può rifiutarlo in piena autonomia noi sapevamo che ci saremmo anche sottoposti a questo confronto o a questo equivoco più o meno voluto ma abbiamo voluto invece portarlo perché rimanesse nella città una testimonianza concreta anche di quello che è accaduto e ci piace politicamente ci piace che pochi o tanti che siano quelle risorse vengano investite nel quartiere dove quella cosa è accaduta a testimonianza appunto poi si può non essere d'accordo sulla riqualificazione di via Picardi e il giardino ma su questo noi non abbiamo certezze ne abbiamo deciso niente qui la discussione è ampia e ancora aperta la possiamo portare in quartiere portiamola in quartiere si è fatto riferimento consigliere Nossa a una delibera di giunta della fine della consigliatura ma non aveva copertura di spesa riguardava un progetto dei commercianti di via Picardi possiamo decidere che a noi di quel progetto dei commercianti di via Picardi non ci interessa e decidiamo di investirlo nel giardino e va benissimo quello che credo che politicamente sia importante è che comunque lì rimanga la testimonianza e poi chiudo consigliere Cremonesi per lei questa sera è stato uno show uno show politico ha detto magari lei si è anche divertito io no francamente per nulla e non credo si siano divertiti neanche i consiglieri di maggioranza e di minoranza che sono intervenuti perché quello di questa sera di cui si è parlato è una triste pagina della nostra storia altre volte dovremo tornare dovremo affrontarne altre di queste pagine ma lo faremo nello stesso modo con coraggio davanti alla città e lo affronteremo grazie grazie al signor sindaco per il suo intervento chiarificatore grazie allora questo all'inizio della seduta il gruppo di maggioranza presentato in ordine del giorno attinente a questa materia do la parola alla consigliera Antonio Olli per illustrarlo un attimo grazie 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 signor presidente lo leggo così allora il consiglio comunale di Sesto San Giovanni riconferma la necessità già espressa in più occasioni dal sindaco che il comune si costituisca parte civile in ogni procedimento penale relativo ai leciti edilizi nei quali la sua immagine e la sua operatività siano state danneggiate richiedendo ai responsabili il giusto risarcimento dei danni materiali e morali necessità che peraltro scusa scusi necessità che peraltro aveva già trovato formalizzazione nella delibera dell'aggiunta comunale numero 150 del 3 maggio 2012 il consiglio ribadisce altresì la necessità che venga intestata specificazione civile intesa risarcimento dei danni materiali e morali causati dai tre imputati che hanno patteggiato nello scorso autunno il consiglio comunale invita infine la giunta a collocare sul portale comunale il registro dei dati edificatori e di adeguare le norme del piano delle regole a quanto previsto dalle recenti modifiche dell'articolo 2643 del codice civile in materia di trascrizione dei registri immobiliari il consiglio ritiene che attraverso tali azioni si esprima la volontà di tutelare legalità e trasparenza dell'azione amministrativa che sono elementi fondanti di un ente locale sano e di un ordinamento democratico grazie in ordine dei lavori della spiegazione vorrei capire cosa vuol dire cosa è previsto dalle recenti modifiche dell'articolo 2643 del codice civile perché io non lo so cosa prevede l'articolo cosa prevedono le modifiche all'articolo 2643 del codice civile gli risponde il segretario un attimo grazie scusi no chiedo che mi risponda scusi lei deve avere una risposta legale formale gliela sta dando scusi abbia pazienza ma non ci perdiamo queste cose io siccome la presentatrice la consigliere Antonioli voglio la spiegazione della presentatrice perché sennò vuol dire che l'hanno imbeccata se non lo sa no va bene prego buon attimo va bene l'articolo 2643 del codice civile in materia di trascrizione su registri immobiliari prevede che tutto ciò che riguarda le volumetrie se ho come dire abbiamo studiato la cosa ci siamo consultati gliela spiego come l'ho capita l'abbiamo messa poi magari il segretario generale dirà se è legittimo quello che stiamo dicendo no però onestamente trovo che questa gazzarra sempre prevede che i movimenti di volumetrie siano registrati al catasto immobiliare in modo che tutte le volte che si fa un atto notarile passa in proprietà a un'area questa cosa sia registrata dal notaio serve per dare oltre alla trasparenza di metterle su il sito e tutto quanto come dire un vincolo che è legato agli atti notarivi questo è per rafforzare questa cosa grazie per chiarimento allora su quest'ordine del giorno che fra un po' metterò in votazione è possibile intervenire un oratore per gruppo per 5 minuti prego chi ha intenzione di intervenire che si prenoti prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno consigliera Landucci ha chiesto la parola prego devo dire devo dire che io non ho capito non ho capito niente però qui sono tutti esperti nel senso che secondo me se passava non è possibile che la modifica dica se vado da un notaio è obbligatoria la trascrizione perché se faccio un atto da un notaio è sempre stata obbligatoria la trascrizione quindi scusi consigliere rivolta non può essere questa la modifica ma a parte questo quindi lei non lo sa è chiaro che questo gliel'ha detto il segretario e lei l'ha scritto gliel'ha detto l'assessore Marini e lei cioè è chiaro ecco perfetto allora è chiaro che questo ordine che questo ordine del giorno non è un ordine del giorno del consiglio è un ordine del giorno che è stato costruito dalla giunta per salvarsi l'anima va bene l'abbiamo capito perché io lo scrivo e non leggo una cosa che non so perché allora me la faccio spiegare meglio prima in modo che se uno mi domanda che cos'è lo so spiegare è chiaro io non lo voglio neanche sapere non mi interessa niente questa è una pura formalità con cui la maggioranza del consiglio comunale si lava l'anima per approvare una roba che è una vergogna questo lo sappiamo quindi in questo modo credete di salvarvi l'anima nella mia notazione non dubitavo che non lo sapeste cos'era questa roba qui non dubitavo l'ho fatto per evidenziare le vostre contraddizioni e tenetevele consigliera Landucci mi scusi allora io faccio il faregnare consigliere Rivolta mi deve chiedere la parola intervengo per spiegare l'artiglio ha chiesto la parola prego chi aveva chiesto la parola io questo ordine del giorno prevede che ci si costituisca allora lo rileggiamo? e io glielo rileggo sta com'è ho 5 minuti consigliere Landucci per favore prego consigliere Rivolta allora andiamo avanti è chiaro l'intento di questo ordine del giorno l'ordine del giorno dice che si deve proseguire e voi volete dire di no? dite di no in tutte le azioni che tutelano l'onorabilità dell'amministrazione comunale di questa città cioè significa che l'amministrazione comunale invitiamo e chiediamo all'amministrazione comunale di fare causa ai responsabili di tutte le nefandezze di cui questa sera abbiamo discusso punto voi volete dire che sarebbe la margina del processo? votate contro pace noi diciamo questa cosa l'articolo 2643 dice che l'amministrazione deve trasmettere al catastro adesso non uso il termine corretto mi scuserà sì mi sono consultato con degli architetti con l'assessore abbiamo cercato di fare una roba che avesse un senso noi abbiamo espresso la necessità che questa cosa prendendo avendo letto i verbali avendo ascoltato la commissione in cui si poneva la questione posta da consigliere la corte abbiamo detto oltre a quello si può rafforzare abbiamo individuato lo strumento per rafforzare quella cosa poi lei vuole buttare tutto come dire al marcero lo faccia ma l'ordine del giorno è chiaro dice all'amministrazione comunale che sui trasferimenti di volumetrie bisogna avere molta trasparenza se le piace vota a favore se non le piace vota contro dice che ai quei tre signori bisogna proseguire e così come dire attivare una causa nei confronti di quei tre signori perché essendo intervenuto il patteggiamento bisogna azionare una causa nei confronti di questi signori così come da costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale in quel processo non le piace lei crede che non si debba chiedere i danni a questi signori non lo faccia è un po' in contraddizione con quello che ha detto quindi io forse avrò obbedito anche ai delinquenti e questa cosa è vergognosa questa che ha detto perché obbedire ai delinquenti significa dire essere in combutta con i delinquenti e chi conosce la mia storia e lei lo sa e la conosce e quello che rende vergognoso il suo intervento è che lei sa benissimo qual era la mia posizione nei confronti di quello che è avvenuto con chiarezza io non ho rifiutato di discutere ho rifiutato di discutere di un dossier anonimo è un principio è un principio del è un principio del garantismo non si discute di un dossier anonimo se qualcuno ha delle carte non le usa tirandole fuori all'ultimo momento le porta in procura e lo dice chiaramente perché il consigliere la miranda ogni tanto fa capire che lui sa delle cose difatti se vi andate a leggere questo verbale capirete che lui qualcosa la sapeva sul serio o qualcuno ne aveva spifferata ma non aveva capito che cosa tanto è vero che lui non parla né di 400 metri quadri né dei 900 parla cosa c'entra cosa c'entra consigliere Randucci per favore perché poi invece parlano i fatti perché poi invece parlano i fatti i signori che come lei dice obbedivano i delinquenti chiedono di fare causa ai delinquenti va bene consigliere Randucci non è facile nulla consigliere Randucci se era facile me ne stavo a casa ma si vergogni di quello che ha detto è una porcheria la cosa che ha detto è una porcheria per favore io non rinnego niente della mia storia e so che ruolo lei ha giocato faccio la stessa cosa se è una donna di onore o invece di per favore consigliere Randucci stasera sta esagerando effettivamente sta esagerando ha chiesto la parola io non le ho detto che era in compagnia di delinquenti va bene per favore allora ha chiesto la parola il consigliere Lamiranda ne ha facoltà gli voglio rammentare che quando parla con microfono spento non viene registrato perciò va bene no glielo ricordo prego grazie presidente devo dire stasera nuovamente rivolta dimostra che abbiamo toccato un nervo scoperto quando reagisce così esattamente quando reagisce così è proprio perché no ma è perché è nervoso perché sa che tocchiamo un nervo scoperto questo poi risponderò in serie di dichiarazioni di voto sulle tecnicismi debbo rilevare che ovviamente è evidente che qui sia diciamo è una sorta di ordine del giorno confezionato per lavarsi la coscienza quello che c'è di fondamentale si è già detto ampiamente discusso e già l'abbiamo detto più volte del costituirsi parte civile quindi non c'è bisogno adesso di nuovamente ribadirlo si deve fare punto e fatto debbo ricordarle debbo debbo ricordarle che in un procedimento casualmente il primo perché pensavate che poi dopo non ce n'era più vi siete dimenticati di costituirvi parte civile quindi non è che dobbiamo qua dopo fare altri discorsi non è questione di votare contro come una precisazione non questa giunta non questo consiglio Presidente il fatto che lei debba tornare sempre a puntualizzare sulle cose io devo dire ricordo che non questa giunta l'amministrazione non si è costituita punto è l'amministrazione di Sesto non è che qua cambia colore politico o persone è l'amministrazione di Sesto che non ha fatto un'azione punto quanto all'addizione tre imputati è sbagliata non sono imputati sono pregiudicati condannati è una cosa diversa poi perché circoscrivere ai tre imputati sui fatti che hanno danneggiato siccome l'avete collegata a questa cosa vorrei capire sul P.I. Carmine dove sono potenzialmente i reati commessi perché se andate a vedere avete parlato di una serie di illicità amministrative perché se ci fossero illicità penali avreste potuto collegare l'azione risarcitoria a questo punto ma mi state escludendo voi da tutto quello che state dicendo che ci siano delle responsabilità penali legate al P.I. Carmine e conseguentemente vi sto chiedendo qual è allora il fondamento di questa azione e se l'ordine del giorno è collegato se non è un ordine del giorno che non c'entra niente a bulso allora chiedo al Presidente di estrapolarlo da questa discussione l'ordine del giorno è collegato alla discussione sul P.I. Carmine quindi da questo punto di vista lo devo fare poi lo circoscrivete a tre persone imputate ma perché sono solo queste secondo voi che devono essere perseguiti dall'amministrazione tutto quello che io sto discutendo stasera è come se avessi parlato al vento io già vi ho detto che sono anche i responsabili perché se l'iter amministrativo è lecito e l'ha firmato un nostro funzionario che è ancora nostro dipendente vorrà anche chiamarlo a rispondere o no se ci sono dei saldi che non quadrano e siccome i saldi non quadrano perché l'avete detto voi io credo che questa sia una delibera ad escludendomi di responsabilità e non mi sta bene perché le responsabilità vanno accertate anche quelle civilistiche e amministrative e su questo non avete chiarito questa questione ancora il fatto della trasparenza credo che questo vada a sposare quello che ha chiesto anche spesso il consigliere Orazio Accorta e questo ve lo devo dire l'aveva già chiesto quando avevamo discusso nel gennaio 2010 ma io non sto dicendo che non condivido non ve lo voto perché è un panicello caldo che voi vi mettete sulla vostra coscienza per votare la sanatoria perché poi di fatto è una sanatoria e lo dirò dopo e ultimo che vado a dire non ho capito questa necessità di ripristinare la legalità per noi la legalità c'è sempre stata quando la denunciavamo qua in aula e voi che ve l'eravate dimenticata e lei sicuramente era siccome era in quei banchi e votava quelle delibere si era dimenticato di questa legalità perché lei in un passaggio per un'altra delibera su un altro PI lei mi disse se ho notizie di reato vado in procura lei avrebbe dovuto venire in procura con me io ci sono andato lei lo sa grazie mi dispiace non posso dare la parola al consigliere romaniero perché regolamente prevede un oratore per gruppo quindi mi dispiace è già intervenuto se non ci sono più interventi io direi di mettere in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza ah scusi sì grazie presidente in effetti questo ordine del giorno che porta dei principi condivisibili perché tocca temi e valori che abbiamo tutti ribadito più volte nei nostri interventi però non credo che possa essere collegato con l'argomento della delibera perché è molto riduttivo quindi effettivamente credo che debba essere quantomeno rivisto e ritirato mi permetto di dire perché se vogliamo fare un ragionamento complessivo sui valori che vengono esternati con questo documento credo che possano trovare tutti d'accordo però collegarlo con l'oggetto della delibera effettivamente appare come un tentativo di ulteriormente giustificare una scelta di carattere politico quindi invito la maggioranza forse ha visto che si parla tanto di un confronto costruttivo effettivamente a ragionarci perché rivolta non puoi dire che questo qua è un ordine va bene d'accordo noi siamo abituati tanto per te sei capace di Perry Mason vedo che anche tu sei capace di farlo perché sei capace di difendere l'indifendibile i valori variano secondo delle scelte politiche dove si sta perché è facilissimo dare delle giustificazioni va bene comunque presidente io le voglio fare un appunto mi perdoni pubblicamente perché quando dai banchi della minoranza ci sono degli interventi di un certo tipo parliamo di cose diverse veniamo sempre tacciati su questo non hanno niente a che vedere con l'ordine del giorno comunque che è stato presentato quindi per favore le chiedo veramente in maniera formale se deve far rispettare il regolamento lo faccia rispettare in maniera bibartisa sì ma è difficile interrompere un consigliere che parla con il microfono spento con tutta la mia buona volontà sì va bene allora se non ci sono più interventi io metterei in votazione l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza prego inizio votazione fine votazione consiglieri sono presenti 19 contrari 2 astenuti 2 favorevoli 13 il consiglio approva c'è il consigliere Romanielli che non ha fatto in tempo per la votazione mettiamo a verbare la sua dichiarazione prego sono favorevole grazie sì allora passiamo al secondo ordine del giorno presentato dal dal gruppo sesto nel cuore direi la parola sì no sì no perché perché anticipato prima che lo ritira quindi lo ritira sì se vuole dire qualcosa in merito prego ma se vuole riporto pubblicamente una posizione un tema caro alla nostra alla nostra lista visto che il consigliere nosa ha aperto il suo intervento con una provocazione che credo che non sia una provocazione ma possa diventare un indirizzo politico di questa amministrazione ovvero che tutto ciò che ha costituito comportamenti illegittimi illeciti e che porta della monetizzazione nelle casse del comune possa essere destinato a quelle associazioni che operano sul territorio con tanta fatica vanno a coprire quel principio di sussidiarietà coprire servizi che il comune non è in grado di disoperire mi sto riferendo alle associazioni di volontariato quindi l'idea di trovare delle si però consigliere Capone l'ordine del giorno che lei ha presentato che nessuno conosce ma non è attività della materia scusa sta parlando scusi mi dice intervenga mi dà la parola e mi fa parlare oppure mi dice di non illustrarlo illustrarlo era quello di dire che ma scusi guardi che è lei che mi ha detto di illustrarlo si va bene ma lei l'ha ritirato prima discorso che non sanno di cosa sta parlando i consiglieri capito va bene veramente è uno show stasera no ma io beh lei non si deve attaccare anche lei al carrettino però con queste parole mi scusi allora a questo punto presidente sull'ordine dei lavori una richiesta siccome la votazione è palese ma non è uscito chi ha votato contrario e chi si è astinuto nella votazione precedente se lei ne può dare lettura anche successivamente mi farebbe un favore grazie riusciamo a vediamo la regia no ma non sono capace non lì dove verificheranno verificheranno ma sì prego allora come quindi a questo punto passiamo come previsto dal regolamento procediamo con la dichiarazione di voto gruppo giovani sestese la consigliera Iosa prego grazie presidente allora qualche precisazione una naturalmente al consigliere Romaniello penso che tutti abbiamo riconosciuto l'immane lavoro fatto dall'assessore fatto dagli uffici e molti di noi gli hanno anche riconosciuto un'onestà sia morale che intellettuale nel giudizio che ha dato a tutto questo procedimento ci siamo portati in consiglio comunale dei dubbi non perché siamo scemi ma semplicemente perché ci siamo lasciati in commissione con una serie di domande tanto è vero che l'architetto Riganti ha mandato una mail di risposta ai consiglieri se sono rimasti dei dubbi sono stati semplicemente espressi non è che siamo usciti dalla commissione ok tutto a posto andiamo in consiglio e poi facciamo i numeri primo non è che chi vota contro ha ragione e chi vota a favore ha torto è altrettanto vero però che letti gli atti letti verbali ascoltato l'assessore Marini nella ricostruzione dei fatti quello che è emerso è che qualcuno l'aveva detto e qualcun altro in buona fede non ha ascoltato questi sono i fatti consigliere De Noia non è vero che noi non siamo architetti e quindi possiamo avere una valutazione parziale di quello che è avvenuto però se uno si legge i documenti fa la somma fa le sottrazioni e fa le moltiplicazioni magari non riesce ad esprimerlo in maniera così esaustiva come il consigliere Lamiranda ma qualcosa riesce anche a dire a capirci per ultimo volevo dire che continuiamo a parlare di responsabilità e di assunzione di responsabilità e che questo è il nostro compito credo che alla responsabilità debba corrispondere a un cambiamento e che cambiare a volte vuol dire fare delle scelte diverse da quelle che abbiamo fatto finora così secondo me si paga il conto morale dimostrando il cambiamento e la volontà di cambiare mi dispiace sindaco che lei si sia stizzita io sono la rappresentante di una lista civica che ha votato a favore delle sue linee programmatiche ho votato a favore della sua città amica forte e coraggiosa e quindi continuerò a chiedere e a chiederle continuamente di portare avanti questa idea di città e dove non mi sarà chiaro mi opporrò il nostro voto comunque sarà contrario grazie gruppo federazione della sinistra il consigliere foggetta sì anche io volevo fare solo una piccola puntualizzazione prima ho parlato di polemica sterile non volevo non volevo offendere tutti non volevo offendere nessuno forse una sorta di lapsus questa forse solo mi rendo conto che forse dall'altra parte c'è qualcuno che si dispiace di non poter scrivere domani a sesto notizie che la decisione è stata presa nelle oscure botteghe della casa comunale comunque l'avevo già detto prima favorevole grazie sinistra ecologia libertà consigliere nostra sì grazie presidente ma noi noi di se l'accogliamo con piacere che le mie proposte abbiano avuto come dire una ridondanza in questo consiglio comunale questo ci fa solamente piacere vuol dire che probabilmente vi sono diversi punti di vista che sono comuni a più consiglieri che sono a volte anche trasversali è vero questa sera noi noi di se siamo in difficoltà siamo in difficoltà perché siamo in difetto siamo in difetto in quanto qualche problema nel passato c'è stato qualcosa di illecito sembra che sia stato fatto e che umilmente tutti quanti stiamo riconoscendo forse non è sufficiente ma è quello che dobbiamo fare che stiamo facendo è tantissimo è giusto è sicuramente quello che la città serve in questo momento forse dobbiamo stare più attenti in passato si può darsi adesso dobbiamo pensare alle soluzioni per mettere freno o per sistemare qualcosa che in passato è accaduto per mettere freno sono sicuro che lo stiamo facendo nel miglior modo possibile per quanto riguarda di sistemare ciò che è stato fatto in passato ho fiducia e speriamo nel continuo di queste soluzioni l'assessore Marini diceva giustamente che le pratiche si devono vedere singolarmente lo chiede la legge io aggiungerei che soprattutto lo chiede la città che queste pratiche vengono viste singolarmente con attenzione che si arrivi a delle soluzioni noi non ci sottraiamo dalle nostre responsabilità questa sera avendo avuto anche in questo nulla osta per la correttezza della delibera dei nostri funzionari e dalla relazione dell'avvocato interpellato noi voteremo a favore grazie grazie il gruppo misto la consigliere Landucci prego grazie presidente ma io volevo dire al consigliere Rivolta che se avesse guardato la modifica dell'articolo 2643 diceva che vanno trascritti gli atti della pianificazione urbanistica cosa che prima non era prevista e questo è previsto da una legge del 2011 guardate adesso su internet e per questo glielo so dire forse conviene prepararsi prima di leggere qualcosa detto questo detto questo no non aveva detto affatto questo detto questo detto sì ma vanno trascritti quello che viene fatto della pianificazione urbanistica non c'è scritto questo perché la modifica è questa perché altrimenti il 2643 diceva che vanno trascritti gli atti notarili di compravendita come tutti sapevano da sempre abbia pazienza non era ovvio per niente non lo sapeva nessuno nemmeno lei ecco allora detto questo ma perché io mi guardo io consigliere rivolta consigliere rivolta una dichiarazione di voto per cortesia trovo veramente ammirevole la posizione di Moreno Nossa che ammette umilmente che qualcosa è stato sbagliato e che quindi forse bisogna cercare di non sbagliare in futuro cioè forse bisognerebbe farlo questo naturalmente vale soprattutto per quelli che c'erano prima come lui come lei come altri no cioè io non capisco perché non basta dire questo abbiamo sbagliato perché evidentemente avevate ragione voi quando noi abbiamo detto che c'erano queste criticità voi ci avete detto che non era vero perché vi siete fidati degli uffici allora gli uffici non funzionavano semplicemente questo è quello che appena ha detto Nossa è quello che appena ha detto Nossa ed è la chiara verità naturalmente questo non possiamo imputarlo a chi non era in consiglio comunale ma a quelli che erano in consiglio comunale o peggio erano in giunta è chiaro che a questi bisogna imputarvelo perché dall'opposizione allora queste cose vi erano state dette e non soltanto per il dossier anonimo non diciamo stupidaggiri su questo P noi avevamo evidenziato tutte le criticità tant'è vero che io avevo detto che i 900 metri quadri di superficie non erano stati demoliti e quindi non si poteva autorizzare di farli e infatti ancora adesso lui dice che non si sa se si possono demolire e nella convenzione c'era scritto che prima di costruire bisognava averli demoliti e voi avete detto che non ve ne fregava niente e siete andati avanti cioè io non capisco perché non si possa semplicemente dire quello che ha detto lui e che toglie ogni polemica abbiamo sbagliato e cerchiamo di non sbagliare più mi sembra il minimo che si possa fare a fronte di quello che è successo col sistema sesto uno dice questo e toglie ogni polemica altrimenti sono arrampicate su specchi scivolosi perché la banda di delinquenti c'era non è che se uno ha detto di sì in buona fede fa semplicemente la figura del cretino ma non è che non ha detto di sì ha detto di sì perché era evidente che stava succedendo qualcosa che non andava bene consigliere Landucci io no io ho 5 minuti ne sono passati 3 ne sono passati 3 e io mi prendo 5 minuti abbia pazienza io mi prendo 5 minuti per 5 minuti parlo certo la mia dichiarazione di voto è negata per favore consigliere Iroa Maria perché esiste una maggioranza che non è capace di guardarsi in faccia e di farsi un esame di coscienza ma vuol pretendere di aver avuto ragione ieri e oggi e questo chiaramente non è possibile perché oggi stiamo l'architetto Marini ha detto che c'erano atti pesantemente illegittimi quindi siccome voi l'avete votato avete votato degli atti illegittimi punto punto e le dico anche che in questo ha ragione l'avvocato la Miranda è chiaro che questo ordine del giorno faceva ridere per quelli perché noi non sappiamo cosa troveremo ancora di illegittimo non lo sa nessuno perché come ha detto l'architetto Marini bisogna esaminare una pratica alla volta e quindi vedremo cosa emergerà di schifezza molto perché è chiaro che c'era una organizzazione che era costruita apposta per fare del male alla città su questo mi pare che siamo tutti d'accordo tranne voi che continuate a difendere l'operato vostro del passato che è stato di oggettiva complicità con questo come no come no io sto parlando di quelli che erano in consiglio comunale e che hanno pervicacemente votato a favore di tutto quello che veniva presentato e che ora è finito sotto la lente della procura anche se noi dicevamo che era sbagliato perché noi l'abbiamo sempre detto non è vero che non si sapeva si sapeva perfettamente perché noi l'abbiamo sempre detto è chiaro perché questo caro Romaniello bisogna dire che noi l'avevamo detto non è che abbiamo scoperto l'America improvvisamente ci eravamo già arrivati come i vichinghi prima di Colombo deve concludere va bene quindi il nostro voto è negativo è sfavorevole per questo grazie gruppo movimento 5 stelle la consigliera Franciosi prego grazie presidente allora il nostro sarà come già detto prima nel mio intervento un voto negativo alla delibera vorrei fare solo una precisazione rispetto al riscatto quando io ho fatto i miei conti che sono appunto semplice semplice matematica a seguito della lettura del CTU non mi riferivo ai soldi presenti o quantomeno agli 85 mila euro di cui si fa riferimento in delibera è qualcos'altro io non ho detto che quel quanto i soldi presenti in delibera sono un riscatto io ho fatto un altro tipo di discorso che secondo me ma poi dovreste essere voi a darmi o torto o ragione nel conto totale finale del riscatto della quota di edilizia pubblica manca qualcosa tutto qua grazie grazie gruppo popolo della libertà consigliere la miranda prego grazie signor presidente giusto per non rimagare il passato ma è bene che qualcuno si ricordi che appunto siamo stati tacciati dall'assessore di leva di non aver ben letto gli atti quando discutavamo del PI Carmini che avremmo evitato quindi di incorrere in una figuraccia che si è voluto creare un caso ad arte dove non c'era le dirò di più l'assessore amato ecco perché poi dico c'è una grossissima responsabilità politica anche se poi il sindaco se la prende su questo dove affermò verbale se qualcuno costruisse in più dei 900 metri quadrati perché qua abbiamo il problema famoso che c'erano i 400 metri quadrati che erano di fatto camuffati in quel momento perché per riuscire la scoperta abbiamo scoperti dopo che cose erano stati realizzati come erano stati proposti realizzati se qualcuno costruisse infatti ci veniva a dire se qualcuno costruisse in più di quei 900 metri quadrati commetterebbe un reato se noi se questo fosse fatto e noi non vigilassimo di questi affinché aspetta che qua è complicato il passaggio se questo non fosse fatto non vigilassimo affinché non si realizzasse una cosa di questo tipo ometteremmo noi qualcosa anzi anche questo sarebbe reato allora queste sono le responsabilità che poi io chiamo e su queste responsabilità non riuscite a uscirne è inutile a discutere voi mi dite adesso l'assessore dice non è una sanatoria quindi allora io sono convinto che se da un lato l'amministrazione oggi ritira in autotutela il provvedimento di sospensione domani mattina quando ci sarà la presentazione dei saldi e di chiusura lavori andrà a conteggiare la differenza degli standard la differenza della convenzione e come già è stato preannunciato in commissione verificheranno anche sull'edificio B il saldo degli oneri perché il problema è che poi sugli standard e sulla convenzionata non avete dato risposta che poi è quello che c'è scritto nella relazione della procura come a livello amministrativo che il PI dell'epoca era deficitario sotto questo aspetto che è quello che poi alcuni hanno fatto negli interventi quindi l'ha scritto chiaramente perché se non viene fatto questo ecco dove il danno era reale e io chiamerò lei consigliere rivolta davanti al giudice della corte dei conti che si riterrà che sarà ritenuto congruo questa vostra decisione che questo perché qualcuno sicuramente invocherà l'effetto tombale su questo ve lo dico già chiaro non è che qua ci stiamo a giocare intorno e su questo qualcuno dovrà essere chiamato a rispondere perché c'è scritto qua che mancano gli standard io non sono un professionista ma non ce l'ho dall'architetto Riganti che mi ha confermato che gli standard sono conformi perché su tutti i 4 e 4 non ci sono la realtà dei fatti è quella perché o è un incompetente il perito della procura e allora sono fessi i tre che si sono fatti condannare su una perito della procura o c'è un problema di saldo tutto qui è quello all'arrilievo che noi facciamo ecco perché non si può accettare supinamente una chiusura in questi termini in questi modi tutto qui è stata la riflessione nostra non si vuole né da parte mia demolire o fare né dagli alluntori ma semplicemente riportare nell'ambito della legittimità ciò che non è stato fatto prima tutto qui perché ci sono altri operatori che sono rimasti nell'ambito della legittimità non perché questo operatore non lo sia rimasto per conto suo io su questo invoco la buona fede ci mancherebbe altro però sta di fatto che ha utilizzato un professionista che era super chiacchierato e su questo voi potete dire quello che vuole ma io vi ricordo che Eldrini disse che noi esprimevamo calunnie contro di leva eh lo ricordo solo poi ho visto quali sono e come sono andate a finire le calunnie aggiungo un'ultima postilla che già in commissione ne discutemmo l'articolo 6 o l'8 della convenzione le parti hanno patuito espressamente quindi amministrazione comunale e soggetto al trattore che l'edificato all'infuori di quello già previsto e assentito nel 2006 come superficie fondiare doveva essere reperita fuori dall'ambito del P quindi si doveva trasferire quindi c'è una violazione di una norma contrattuale quindi non ci saranno illeciti amministrativi non ci saranno illeciti penali ma c'è un patto che viene violato dai convenzionati e quindi tranquillamente io credo che chiunque possa attivare allora un'azione di risarcimento sotto questo aspetto perché se vi ha concorso qualcuno amministrativamente a creare questa violazione è evidente che il soggetto a questo punto lo sapeva perché non posso dire che non lo sapeva perché quando ha cominciato a generare ulteriore SLP interna al proprio sito andava in violazione di quello che c'era scritto in questo grazie consigliere la Miranda e quindi ecco perché io complessivamente esprimo un parere negativo grazie grazie gruppo Italia dei Valori consigliere De Noia prego grazie presidente vabbè per quanto espresso prima il nostro voto sarà favorevole niente poi volevo rispondere proprio brevemente al consigliere Capone prima parla di scarico delle responsabilità ma non si preoccupi perché tanti cittadini a chi dare la responsabilità lo hanno già detto a chi vogliono dare la responsabilità quindi non le scarichiamo niente grazie gruppo sesto nel cuore consigliere Caponi prego grazie presidente il nostro voto è contrario abbiamo parlato di parecchi argomenti questa sera una sola precisazione assessore Marini non è ristoro non è resercimento ma è rimasta ancora in avasa la nostra la nostra osservazione emersa durante la commissione se il comune ha fatto una controproposta rispetto alla proposta avanzata dalla proprietà credo che questo possa rappresentare un precedente grazie gruppo partito democratico consigliere di volta prego sì grazie presidente si chiude una discussione che poteva essere un'occasione e secondo me non lo è stata si è voluto in continuazione equivocare sulle cose che noi abbiamo detto all'inizio dell'intervento ho detto con chiarezza che oltre a essere bizzarro questo atto era illegittimo e che se anche fosse stato semplicemente maldestro chiunque produce un atto maldestro e usa quell'atto maldestro in termini personali fa un danno alla pubblica amministrazione e alla città cioè sto dicendo che se anche non ci fosse illegalità in questi atti non credo che in questi atti siano stati fatti per come dire in maniera si dice a Napoli arronzata questi atti sono stati gestiti volutamente in questo modo perché così questi tre signori gestivano gli atti perché questo gli dava la possibilità evidentemente di svolgere un ruolo e come ha e ho citato il patteggiamento come dire ha fatto in modo che avvenissero atti di corruzione questa cosa io l'ho detta nel mio intervento più chiaro di così dire cosa penso di questa cosa cioè non mi basta e non passa l'idea che si potesse fare tutto in maniera corretta e questo sarebbe stato sufficiente non mi basta ho detto che non mi basta ho detto che quella roba lì come dire configura un modo di gestire la pubblica amministrazione che è fatto ad uso e consumo di chi può esercitare un ruolo e quindi fare un danno perché se un diritto non è certo è un diritto trattabile è un diritto oggetto di corruzione e di concussione più chiaro di così non so cosa potessi dire sono andato oltre quello che l'assessore Marini aveva detto in commissione se non si vuole capire non si capisce la discussione poi ha occupato una serie di interventi a discutere sul fatto che questo atto andava bene ma se ne doveva far carico la giunta alla fine della discussione questo fatto scompare allora la discussione di questa sera come ho detto è una discussione che sta all'inizio che sta in un consiglio comunale che viene eletto subito dopo queste cose che quindi deve fare delle scelte allora l'opposizione sta dicendo che delle 15 pratiche che noi esamineremo nessuna dovrà più tornare in consiglio comunale è chiaro? è chiaro alla città? perché noi stasera abbiamo preso schiaffoni ci siamo sentiti dire che eravamo complici di delinquenti e l'avremmo fatto per scaricarci la coscienza signori miei questa è una bagianata siamo venuti qua a fronte alta con il coraggio di assumerci la responsabilità sappiamo che è avvenuta una roba illegale ma siccome governiamo dobbiamo dire o sì o no voi avete detto no a parte il consigliere Lamiranda avete detto no ma nessuno ha detto che cosa si dovrebbe fare si sarebbe dovuto fare questo ho detto a parte il consigliere Lamiranda però non mi ha ascoltato quindi o uno viene qui a dire non dovevate fare così e si doveva fare cosa questo significa essere forze di governo forse per questo forse per questo la città ci ha riconfermato nonostante tutto quello che avesse fatto qualcuno nella nostra compagina il ruolo di governo ci assumiamo la responsabilità così bisogna dire alla città che qualcuno in questo consiglio comunale è perché nelle prossime 15 pratiche non c'è scarico ma bisogna essere poi conseguenti nelle prossime 15 pratiche se ci saranno degli atti illegittimi degli appartamenti illegittimi anche a persone già consegnate che ci sono dentro bisogna buttarle fuori e demolire è perché la conseguenza è questa non è che i fatti non sono conseguenti noi sappiamo che secondo lei sì consigliere Landucci perfetto fantastico io credo che noi questa sera dobbiamo come dire mettere riparo a un atto maldestro e illegale di un'amministrazione comunale quella precedente e ci assumiamo la responsabilità di farlo non facendo pagare ai cittadini un'altra volta il conto perché saremmo inetti e saremmo stati stupidi a fallare la prima volta e adesso voi ve le immaginate qual è il ruolo di una pubblica amministrazione che non solo ha fatto degli atti illegittimi ma poi se la prende con i cittadini che devono comprare quelle case o che hanno comprato quelle case no signori preferisco assumermi la responsabilità la responsabilità ci metto la faccia non ho problemi faccio politica per passione non ho paura di fare nulla anche se il consigliere la Miranda tutte le volte paventa delle cose tremente non ho paura mi assumo la responsabilità e voto a favore perché credo che mi devo portare questo fardello anche di assumermi questa responsabilità perché questa responsabilità mi compete grazie grazie al consigliere rivolta a questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera nella stesura definitiva risultando dal testo esaminato inizia votazione prego fine votazione consiglieri presenti 22 contrari 8 astenuti nessuno favorevoli 14 il consiglio approva per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità prego inizio la seconda votazione fine votazione consiglieri presenti 21 contrari 4 astenuti 3 favorevoli 14 consiglio approva presenti 21 e non c'è la video parla ma ha chiesto la parola il consigliere Romaniello per un fatto per fatto personale mi rivolgo solo a lei Presidente grazie che sia chiaro dalla prossima seduta cosa si può e cosa non si può dire durante la dichiarazione di voto sì un attimo signori un attimo c'è il secondo punto all'ordine del giorno dobbiamo decidere dobbiamo decidere se andare avanti o meno no c'è il consiglio c'è il consiglio prego un attimo sì allora c'è stato no no dice che i voti non risultavano a video chiedeva il consigliere di dare lettura per la votazione all'ordine del giorno un attimo il primo ordine del giorno e non avevamo capito che ci sono i contrari due che sarebbero Caponi e Titta Ferranti poi i favorevoli Antonioli De Noia Foggetto Gianvecchio nostro Pastorino Pietro Presidente Rivolta Sindaco Teormino e Tremorale Astenuti Cremonesi e Franciosi non voto non votate Landucci Pavan e addirittura il consigliere Lamiranda non risulta è un errore a video perché non è possibile vedere però dalla stampa delle votazioni non risultano i voti dei consiglieri Lamiranda Landucci e Pavano sull'ordine del giorno Vabbè era semplicemente che non c'era la schermata allora consigliere Landucci e consigliere Pavano non c'è l'esito della votazione neanche ah non avete votato quindi è come essere fuori dall'assenti ma l'assenzione è votata qua? no qui è presente sì sì allora passiamo passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno così ormai abbiamo superato la mezzanotte quindi delibera di indirizzo per la modifica delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole agli atti agli atti risultano nominati due relatori però mi risulta che c'è stata una rettifica quindi hanno deciso che solo il consigliere Cremonesi è come relatore di commissione è così? la parola consigliere Cremonesi prego sì grazie presidente allora molto velocemente allora seconda delibera di oggi in commissione si è discusso della delibera di indirizzo per la modifica delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole ringraziando ovviamente tutte le persone intervenute nel testo della delibera si cerca di spiegare i vari problemi interpretativi soprattutto negli articoli 3 e 5 e 14 la delibera cerca di dare una definizione alle varie questioni ad esempio computo degli spazi distributivi calcolo dei vani eccetera eccetera la delibera nasce anche con l'intento di dare un'interpretazione alle norme non chiare veniamo alle varie indicazioni come citato appunto nella delibera a distanza di 4 anni dall'approvazione della nuova strumentazione urbanistica ed in funzione all'attività di istruttoria delle pratiche edilizie si è riscontrata un'oggettiva difficoltà di interpretazione di alcune norme tecniche di attuazione del piano delle regole non entra ovviamente nello specifico delle norme tecniche e della relazione che c'è in allegato appunto alla delibera l'articolo 3 riguarda i parametri urbanistici tratta della superficie lorda di pavimento quindi definizione calcolo cantine altezza dei piani abitativi o agibili e computo degli spazi distributivi l'articolo 5 tratta della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso quindi parcheggi pertinenziali cambi di destinazione d'uso e l'articolo 14 tratta di ambito consolidato prevalentemente residenziale quindi sopraelevazione degli edifici esistenti con non più di due piani abitabili sono stato velocissimo grazie grazie consigliere cremonesi e sono apriamo gli interventi su questa delibera ha chiesto la parola il consigliere la mia grande ne ha facoltà prego grazie presidente al di là dell'opportunità di alcuni chiarimenti in fatto che si sono resi necessari o meglio l'amministrazione ha ritenuto di rendere necessari sì da non avere ulteriori eventuali conflitti o contenziosi registro soprattutto quello che diciamo il modello sostaro che si era andato sempre più sviluppando e che io avevo denunciato nel senso che o era un modello che veniva codificato o diversamente era proprio quello che generava sempre i dubbi negli sviluppi dell'SLP e c'era quello del computo degli spazi distributivi derivanti dagli sbarchi ascensori pianerotoli e disimpegni delle parti comuni che era inquadrato generalmente sotto la dicitura dei 18 metri quadri di SLP sviluppabili ma che ahimè spesso veniva aggirato nel senso che venivano computati superfici molto maggiori e spesso anche non con i criteri della comunicazione dei piani ma comunque assentiti all'interno di questo credo che su questo memori del modello sostaro ma mutuando anche di fatto il modello sostaro da questo punto di vista viene ampliato questa superficie che non viene conteggiata complessivamente ma forfettariamente nei 18 metri quadri di SLP in tutti gli ambiti di disimpegno a condizioni che però risultino effettivamente passanti comuni la novità tra virgolette che posso dire che abbiano la caratteristica di essere di comune nel senso di collegamento effettivo nell'antesignana di questa norma diciamo che spesso anche i passaggi non comuni venivano computati in questi ambiti e quindi poi si generavano quelle situazioni dovevamo un piano in più di SLP non ci si riusciva a capire come era possibile che si arrivasse a questa superficie caso per tutti il San Giorgio grazie grazie consigliere la Miranda ha chiesto la parola la consigliere Landucci ne ha facoltà prego grazie presidente naturalmente l'ora è molto tarda tutti mi stanno maledicendo ma la delibera in realtà è molto importante ed è un peccato di trattarla in questo modo perché si tratta di regole che dureranno nel tempo e che naturalmente serviranno per le nuove costruzioni soprattutto io trovo molto pericoloso e questo lo dico all'architetto Marini l'articolo 5 sulla disciplina dei mutamenti destinazioni d'uso tutti noi sappiamo che uno dei problemi della città costruita è la mancanza di parcheggi pertinenziali per cui siamo oberati da gente che vuole parcheggiare nei posti pubblici ecco io chiederei di evitare al massimo la monetizzazione e di cercare invece di imporre il reperimento di parcheggi pertinenziali perché è chiaro che uno si fa attirare dal prendere un po' di soldi subito se è vero che i comuni hanno fame di soldi però alla lunga questo vuol dire rendere invidibile la città quindi davvero chiederei che questo articolo fosse usato il meno possibile perché questo è uno dei problemi fondamentali della città e delle città in genere cioè l'impossibilità di trovare per tutti parcheggi sulla pubblica strada è chiaro allora che se uno fa un cambio di destinazione d'uso all'interno di questi ampi territori che si cambia quindi si guadagna molto in genere si deve imporre di trovare dei parcheggi pertinenziali al limite riducendo gli spazi da rendere abitabili perché il parcheggio è fondamentale altrimenti ce li ritroviamo tutti in strada e alla fine non ci stiamo più tutti in strada e questo credo che davvero questo articolo 5 sia molto pericoloso perché queste cose qui non vanno monetizzate vanno imposte e questo vale per tutto perché prima abbiamo parlato se 40 cittadini hanno comprato a parte che i 40 naturalmente da sanare saranno tre perché è chiaro che le altre cose erano legittime tre che hanno comprato una cosa illegittima bisogna fargli capire che non la possono avere perché se è illegittima è illegittima cioè voi che vi riempite la bocca di legalità naturalmente quando c'è da sanare una cosa vostra vi va benissimo tutto se una cosa è illegittima non va sanata allora io chiedo davvero che questo si cominci a pensare alla futura vivibilità della città per cui chiedo all'architetto Marini questo articolo di fare molta attenzione perché mi pare molto pericoloso perché è molto facile io so per esempio pensiamo ai cambi destinazione d'uso degli spazi industriali è chiaro che se io lì ci voglio fare un palazzo meno parcheggi pertinenziali trovo e più ci costruisco sopra allora riduciamo la superficie calpestabile ma obblighiamoli a trovare i parcheggi pertinenziali perché non bisogna più mettere macchine in strada perché ne abbiamo fin troppe di macchine in strada io vivo in una zona dove negli anni settanta probabilmente a forza di monetizzazioni ci sono un sacco di condomini che non hanno neanche un parcheggio o un box e quindi è una guerra per trovare il parcheggio e quindi in questo senso bisogna veramente impedire questo malcostume è che un malcostume è solo italiano perché non esiste in tutto il mondo che per esempio uno che ha un'officina non abbia uno spazio di parcheggio pertinenziale per cui questo è a Cinisello ma non è un esempio in via Lincoln c'è uno che fa il gommista e il sabato mattina c'è davanti dieci macchine sulla pubblica via perché non è neanche un parcheggio pertinenziale è una cosa inammissibile solo in Italia può succedere quindi per favore questo articolo che io trovo davvero molto pericoloso grazie alla consigliera Landucci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non ci sono più interventi quindi è stato presentato come già saprete un ordine del giorno dal Movimento 5 Stelle prego la consigliera Franciosi se vuole illustrarlo grazie grazie presidente sarò brevissima intanto volevo fare un'aggiunta come giustamente mi ha fatto notare l'assessore in fondo vengano approvate dalla giunta comunale dal consiglio comunale perché ahimè io pensavo fosse solo materia della giunta comunque quello che mi premeva richiedere con questo ha ragione ha ragione consigliere rivolta me ha colpa me ha colpa la prossima volta mi preparerò meglio e vabbè allora tornando all'ordine del giorno la mia richiesta è semplice la mia la nostra richiesta è semplicemente quella di chiedere a seguito della revisione che ritrovi che riteniamo un ottimo punto di partenza se gli uffici ritengono di voler rivedere le norme attuatorie è bene che lo facciano però chiediamo che prima di passare all'approvazione della giunta e poi del consiglio si passi in commissione per illustrare ciò che gli uffici hanno prodotto per richiedere che questa cosa non ci venga presentata sotto forma di delibera ma semplicemente sotto forma di studio precedente ok questo è il punto tutto lì beh potete anche se non vi se non vi aggrada potete anche rigettarlo ah ok un po' come ha fatto un po' come ha fatto l'assessore Perego con i criteri di assegnazione delle graduatorie delle liste degli asili nido l'assessore Perego prima di andare in giunta ci ha presentato tutta la graduatoria senza mettere i punteggi ma semplicemente dicendo queste sono le norme che noi vorremmo rispettare e ve le presentiamo a voi che siete commissari tutto lì semplicemente un passaggio in più o un passaggio in prima grazie grazie molto molto chiara e dettagliata su quest'ordine del giorno è possibile intervenire altrimenti lo mettiamo subito in votazione non ci sono interventi mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle prego inizio la votazione fine votazione per i fatti presenti consiglieri presenti 20 contrario nessuno astenuti nessuno favorevoli 19 1 smarrito il consiglio approva l'ordine del giorno allora andiamo avanti con la delibera con la dichiarazione di voto iniziando dal gruppo giovani se stesse la consigliera Aiosa prego grazie presidente il nostro voto sarà favorevole grazie federazione della sinistra Foggetta favorevole sinistra ecologia e libertà consigliere Nossa noi siamo favorevoli grazie grazie gruppo misto consigliere Landucci favorevole grazie Movimento 5 Stelle consigliere Franciosi favorevole Popolo della libertà consigliere Lamiranti favorevole Italia dei valori consigliere De Noia favorevole Sesto nel cuore consigliere Caponi favorevole Partito Democratico consigliere Tremolata favorevole inizio votazione inizio votazione fino votazione presenti 22 contrari nessuno astenuti nessuno favorevole 22 il consigli approva c'è da fare la seconda votazione per l'immediata eseguibilità calma ragazzi seconda votazione fine votazione presenti 22 contrari nessuno astenuti nessuno favorevole 21 uno perso il consigli approva all'unanimità grazie e buonanotte a tutti anche a pubblico buonasera grazie